Perché ho deciso di raccontare? Tu, Alcide Cervi, scrivi un libro. Io non ci ho mai pensato a questo, né avrei potuto farlo. Quando l'anno scorso andai a Genova al congresso dei partigiani, una madre mi abbracciò e mi disse Papà Cervi, anche a me hanno ammazzato un figlio. Era l'unico figlio, ma che è uno per te che ne hai perduti sette. Io mi alzai il viso dalla spalla mia e dissi Tu ne avevi uno, e quello ti hanno preso. Io ne avevo sette, e sette me ne hanno presi. È lo stesso, non c'è diversità. E che differenza c'è con la bambina Clara Cecchini, di Valla, che le hanno ucciso padre e madre? Aveva solo quell'amore, e gliel'hanno tolto. Era di otto anni allora, e vennero i tedeschi a casa sua, e dissero ai familiari che uscissero sotto il pergolato, si mettessero bene in fila, perché gli volevano fare la fotografia. La bambina si assestò i capelli, e volle dare la mano alla madre, in fila con gli altri. I tedeschi, con una sventagliata di mitra, li massacrarono tutti. E lei, Clara, restò solo ferita, ma non si mosse, vicino al padre e alla madre morti, e restò lì come un cadaverino, finché non vennero i partigiani. E che paragone c'è con la madre di Labettola, che allora quando i tedeschi, per odio, bruciarono persone umane in piazza, le strapparono il figlioletto dalle braccia e lo buttarono nel fuoco. Questi sono dolori grandi, che offendono la vita. Io avevo sette figli, cresciuti con quarant'anni di fatiche, e mi preparavo a togliere il fastidio, perché già arrivavo alla settantina. Invece mi hanno mietuto una generazione di maschi, e la madre è andata via con loro dopo un anno. Così io sono rimasto con quattro donne e undici nipoti piccoli, con un fondo di cinquantasei biolche da lavorare. Hai tempo per soffrire, hai tempo, come la madre di Labettola, che si trova più libera di prima, più libera di pensare alla bambina sua. La vita non mi ha offeso, voglio dire. Mi ha aiutato, perché dovevo campare ancora qualche anno. Avere ancora forza di lavorare, per tirar su un'altra generazione, e prima non dovevo morire. Eppure non mi sono distratto mai dai figli. È tante volte che racconto la storia loro, e mi ci sono abituato. Ma ogni tanto sento le parole mie, e mi sembra ancora impossibile. Rimango ammutolito, e allora sento la morte. Ho ottant'anni adesso, e posso pure togliere il disturbo, perché i nipoti sono cresciuti, e sostituiscono i miei figli. Ecco perché finora non ho pensato al libro. L'importante era salvare la famiglia e la terra, e parlare, predicare in memoria loro, la pace e l'antifascismo. Questo l'ho fatto. Ma oggi posso fare qualcosa di più, perché ho smesso di lavorare, e mi hanno messo in pensione. Però io taglio lo stesso il fieno, e accomodo le sedie. Non serve a niente, ma a me serve. La notte, quando il sonno se ne va, leggo, e in una di queste veglie ho pensato. Se raccontassi la storia dei figli miei, tante cose non le ricordo, perché il dolore ha falciato la memoria, ma un padre di famiglia si fa sempre intendere sui figli. La storia della mia famiglia non è straordinaria. Vedete, qui a Reggio ci sono i cinque manfredi, fucilati dai fascisti, e i tre miselli. Da noi trovate famiglie unite come le dita di una mano, e sono unite perché hanno una religione, il rispetto dei padri, l'amore al progresso, alla patria, alla vita e alla scienza. E soprattutto, noi contadini emiliani, amiamo la patria e il progresso. Così non si ha paura di morire. Avete mai visto quelli che quando parlano in pubblico diventano rossi? Non è mica perché sono timidi e modesti, ma perché sono superbiosi. Mica vedono la gente, vedono solo le persone a loro, e si impressionano che li guardano. Così, quando la morte li guarda, sentono paura, e si trovano soli, perché hanno terrore della morte, come avevano paura della vita. Il sole non nasce per una persona sola, la notte non viene per uno solo. Questa è la legge, e chi la capisce, si toglie la fatica di pensare alla sua persona, perché anche lui non è nato per una persona sola. I miei figli hanno sempre saputo che c'era da morire per quello che facevano, e l'hanno continuato a fare, come anche il sole fa l'arco suo, e non si ferma davanti alla notte. Così lo sapevano i Manfredi, i Miselli, i tanti partigiani morti, che non si sono fermati davanti alla morte. E ora essi sono con noi, in queste terre di Emilia, dove le viti si abbracciano alle tombe, dove un lume è un marmo, e la semente di ogni campo, la luce di ogni strada. Io sono stato eletto al comune di Catattico, e quando mi hanno chiesto che assessorato volevo, ho detto, quello per la cura dei cimiteri. Non sono mica fissato, o vespiglione. Io ho chiesto quello assessorato, perché era come avere due ministeri, quello per la giustizia, e quello per l'istruzione. Non mi curo solo delle erbacce, e di tenere pulito. Faccio andare i bambini, le donne, tutti, a ononare i compagni partigiani caduti, e sfido il maresciallo, che non vuole bandiere e canti, e parlo sempre davanti ai compagni morti. Difendo la memoria loro, e insegno ai giovani. Questi sono i miei due ministeri. Così mi sono deciso, e adesso che ho più tempo, perché c'è da aspettare solo che venga il bambino, figlietto. Voglio difendere la memoria dei miei figli. Voglio difendere la memoria dei miei figli e dei partigiani, dai becchini fascisti e dai riarmisti tedeschi. S'ho messo tempo a decidere, perché la storia della mia famiglia non è straordinaria. È la storia del popolo italiano, combattente e forte. Per questo, tu, padre di famiglia, che hai perduto il figlio in guerra, e tu, madre, che hai avuto il figlio ucciso dai fascisti, sentilo tuo questo libro, sentilo storia anche dei figli tuoi. Solo così mi sentirò meno superbioso. E poi, chi sa scrivere, e la memoria si prepara a lasciarmi in libertà. Perciò mi sono deciso a raccontare, soltanto come posso, la storia dei miei figli. Io parlo troppo in questo libro, lo so, ma è perché i miei figli sono morti, e io invece sono vivo. Parlo anche di me, troppo, e se qualche parola che fu dei miei figli sembra diventata mia, è perché non ricordo chi la disse, ma era come se l'avessero detta tutti e sette, ed io con loro. Perché anche nella vita eravamo così. Otto eravamo uno, e uno tutti e otto. Ma un'altra cosa voglio dire. Per coscienza. Aldo mi ha dato quel poco che ho di intelligenza politica, ed io, a lui, ho dato il senso della protesta. Aldo è sempre stato la testa della famiglia. Quando studiava e non veniva nei campi, l'ho sempre lasciato lavorare. Perché era capitale anche quello, e più importante del fondo. Questo lo voglio dire chiaro. Perché chi a cultura non pensi sbagliato sul nostro conto, che siamo riusciti a fare certe cose solo con le braccia, o perché siamo più spicciativi degli intellettuali. Vedete, per esempio, il paragone con la quercia. Mi hanno detto sempre così nelle commemorazioni. Tu sei una quercia, che hai cresciuto sette rami, e quelli sono stati falciati, e la quercia non è morta. Va bene. La figura è bella, e qualche volta piango nelle commemorazioni. Ma guardate il seme. Perché la quercia molirà, e non sarà buona nemmeno per il fuoco. Se volete capire la mia famiglia, guardate il seme. Il nostro seme è l'ideale nella testa dell'uomo. Quando venne fuori il partito popolare, io presi la tessera, perché ero cristiano, e lezzevo sempre il Vangelo, tutti i giorni, come il giornale. E l'ho detto al prevosto. Mi avete fregato con quella parola popolare. Credevo che volevate mettere insieme tutto il popolo per il progresso. Poi siete diventati clericali. Siete dei dugaroli della chiesa, e fate come il pioppo alto. Quando soffia il vento di sinistra, la foglia piega a destra, e non è mai il pioppo che sa dove vuole andare. Lo stesso è la quercia, perché le foglie sono sempre distratte. Il seme cambia, per essere sempre lui, come natura vuole. La quercia è come vuole il seme. Io sono cambiato, e tutta la mia famiglia è cambiata, e una generazione di maschi è passata, e un'altra viene su. Ma i cervi sono sempre gli stessi, e i vivi si sono cambiati in morti, perché il seme non andasse a male. La prima volta che ho fatto San Martino a Olmo, me ne sono andato, perché il padrone non voleva le migliorie sul fondo. A lui piacevano le cose senza rischio. E qui a Praticello è stato lo stesso. Il padrone non voleva, e alla fine ci ha trattenuto le spese delle migliorie sull'affitto, e non ci ha dato i frutti. Non ho trovato mai un padrone che capisse quello che studiavamo. Eppure erano tutti dottori e ragionieri, ma ci dicevano che eravamo matti, e volevamo mandarli in rovina. Loro erano per i soldi pochi, maledetti e subito. Ma quando il grano è aumentato, e il latte pure, hanno sempre voluto la ricchezza maggiore, e la cultura gli serviva per i conti. Vedete la produzione del grano. Nel 35 ne facevamo tre quintali per biolca. Nel 53 siamo arrivati a undici quintali. E i figli non ce li avevo più. Ma è il sistema che frutta. Le braccia si trovano sempre. Per il latte è lo stesso. Prima, con due chili di fieno, avevamo un chilo di latte. Poi trovammo un concentrato, che con un chilo ci dava due chili di latte. E quando trovammo il concentrato, il padrone ci diffidava, e quelli del compartimento agrario ci sfottevano. Poi, quando avevamo il latte di più, ci dicevano che le vacche diventavano stente, e che dopo qualche anno si sterilivano. Le vacche invece stanno in salute, e la produzione pure. Bisogna armarsi con la testa, voglio dire, perché anche l'amore viene dall'utile. E c'è il buon governo quando l'amore per la patria dà l'utile al cittadino e allo Stato. E quando si fanno le guerre per difendere l'utile, e perché gli altri popoli non perdano l'utile, allora l'amore di patria fa vincere le guerre. I fascisti hanno perduto la guerra perché non difendevano l'utile né dello Stato né degli altri popoli. Andavano con la guerra a cercare le materie prime, e avevano l'agricoltura arretrata e la produzione finiva in malora. E quando mi chiamò il capofascista di Campegine, per obbligarmi a prendere la tessera, gli dissi che la tessera non la prendevo e che mi lasciassero stare, perché io ero utile allo Stato e dovevano ringraziarmi invece di perseguitarmi. Guardassero invece quei proprietari che avevano la tessera e mandavano la produzione a ramengo, perché così sarebbe caduto il fascio. E che io e i contadini di scienza come me eravamo lo Stato e loro gli sperperatori dello Stato. Lo stesso disse al mareciallo dei carabinieri quando venne sul fondo a cercare il grano che non davo all'ammasso. E si vergogni, gli dissi, perché io discuto con l'ufficiale dell'annonaria, casomai davanti a una guardia civile. Lei può arrestarmi se io offendo. Ma se lei è mareciallo dei carabinieri, io sono un mareciallo di Stato. E quando mi chiamò il federale, perché non davo il chilogrammo di grano per le opere assistenziali fasciste, rimasi vicino alla porta e lui urlava per farmi andare davanti al tavolo. La mia voce si sente fino in piazza, urlai più di lui, e se volete il mio chilo di grano, prima mi dovete una spiegazione. Avete raccolto dai contadini centoventi quintali e alle opere assistenziali ne avete dati quaranta. Dove sono andati a finire gli altri ottanta? Il federale saltò in piedi, livido. Non sono cose che ti riguardano. E che te ne importa degli ottanta quintali e a voi che ve ne importa del mio chilo di grano? Se si vuole darlo ai contadini poveri, fateli venire a casa servi e gli sarà dato un quintale ciascuno. Queste cose le ho dette perché non si pensi sbagliato di noi, che andavamo alla cieca, all'orba. Su di noi e sui miei figli c'è sempre stato un segnale. Ricordi miei di gioventù. Sono nato nel 1875. Mio padre era mezzadro e i fratelli erano due, più un bastardo. Mio padre fu un vecchio combattente per la terra e la giustizia, prese parte alle lotte per il macinato e in testa un gruppo di contadini sfidò il fuoco dei carabinieri che fecero dei morti. Insieme coi fratelli abbiamo fatto figli dieci volte di più che mio padre, cioè trenta. Io ho cominciato a lavorare sul fondo a mezzadria di mio padre, poi a Taglievino, dopo sono andato militare. Ho fatto la ferma a Torino nel 1897. Andavo sempre controcorrente, perché facevo valere la lezze anche sugli ufficiali e i generali, ma non mi prendevo con loro a quattro occhi. Le criticavo davanti ai soldati. Un giorno ero di sentinella a una polveriera. Eravamo in cinque nelle garitte. Il regolamento voleva che la parola d'ordine non si può dire se non c'è l'approvazione del capoposto e che gli ufficiali e i generali non potevano entrare in polveriera con la sciabola e gli speroni per via dell'attrito e delle scintille. Un giorno venne il generale Ottolenghi in ispezione. Passa davanti alle sentinelle e alle prime due non dice niente. A me invece chiede la consegna. Io penso che lo facesse così per esame. E risposi che andavo a sentire il capoposto. Il generale si arrabbia e urla che lui è un generale e non c'è bisogno di sentire nessuno. Mi fa la tigna con gli occhi e scodinzola con la sciabola su per le gambe. Allora mi accorgo aveva la sciabola. Poi guardo gli stivali e vedo gli speroni e grido lei non è un generale è un traditore. Il generale diventa bianco e chiede appena perché. Perché quando si entra in una polveriera il regolamento dice che bisogna levarsi sciabola e speroni. Gli ufficiali avevano faccia di terra il generale restò lì imbambolato poi si toglie la sciabola gli speroni e se ne va alla sveltina. Anche le sentinelle smontano e tutti mi guardano con occhi di pena dicono che mi sono rovinato con le mie mani ma il trombettiere suona la dunata e il generale dopo che gli hanno presentato la compagnia chiama dov'è la sentinella numero tre? Presente dico io e mi porto al lato della prima fila sull'attenti c'è l'aria da tribunale ma il generale Ottolenghi comincia un discorso patriottico povera Italia dice se tutti i soldati fossero come quelle quattro sentinelle ecco invece un soldato che sa vigilare sulla patria egli prima del generale ha visto il suo dovere e noi lo additiamo come esempio sentinella numero tre ti saranno dati sette giorni di licenza alle altre sentinelle sette giorni di prigione così il generale si salvò la faccia e io mi feci una settimana a casa quando ero di spesa gli ufficiali mi chiamavano e mi dicevano chi comprarmi una fettina di vitello e chi un osso buco e mi davano le mance io le rifiutavo e dicevo qui c'è scritto tanti chili per le compagnie tanti per gli ufficiali e così mi comporto quando invece ci andavano gli ufficiali a fare la spesa riportavano la carne buona per i cani e i soldati si lamentavano io prendevo due soldi al giorno invece il mio capitano Lavalle direggio anche lui tre lire eppure il capitano mi chiedeva sempre cinque lire in prestito però fu come se li avessi risparmiati alla posta quei soldi perché mi scamparono dalla guerra un giorno si chiamano in adunata e dicono che la mattina alle quattro si doveva partire per il fronte che fronte diciamo noi tra le file che è scoppiata la guerra quando si sciossero i ranghi tutti a chiedere dove era scoppiata la guerra se erano gli austriaci o gli ungheresi qualcuno diceva gli africani bisognava pure scrivere a casa e dire che cosa che si va in guerra va bene ma dove poi non si sa qualche soldato scriveva di andare a difendere la patria e che non gli chiedessero dove perché era un mistero di guerra io non scrissi riga che a casa mi avrebbero coglionato ma poi un sergente fa scappare qualche parola e dice che si va a combattere contro i boeri i boeri e che sono fanno i soldati sono un popolo dell'asia dice il sergente ah hanno la faccia gialla deve essere dalle parti della cina dice un altro e dalla cina vengono qui no siamo noi che andiamo lì spiega il sergente andiamo lì e perché ma si sono rivoltati contro l'italia no contro l'inghilterra ah nessuno ci capiva più niente tra i boeri la cina e l'inghilterra il compagno vicino alla mia branda scrisse un'altra volta a casa per dirgli che adesso sapeva la destinazione che andava a fare la guerra contro i boeri in cina non si ricordava bene la parola e quando mi raccontò quello che aveva scritto la lettera era già imbucata così a casa sua si saranno vergognati loro contadini che il figlio andava ad ammazzare i boeri quando gli fece capire lo sbaglio della parola fu contento perché in fondo i boeri li conosceva e i boeri no così scrisse subito un'altra lettera a casa dicendo che non si preoccupassero perché andava contro i boeri ma la notte non si chiuse occhio pensavamo alla cina poi invece ho saputo che i boeri sono africani la mattina alle quattro tutti alla stazione carichi come muli e per le strade nemmeno fiori o baci la gente non sapeva e ci chiedeva dove andate e noi a fare la guerra contro i boeri la gente rimaneva male e ci guardava strana un vecchio col cappello garibaldino ci mostrò il pugno e urlò ve la do io la guerra contro i boeri arriva la tradotta e tutti si arrampicano in disordine io mentre salgo sono agguantato da un braccio che mi tira giù riesco solo a guardare la manica e vedo i gradi ma quando mi rivolto non riesco a capire la persona perché c'erano vari ufficiali avrò sbagliato vagone pensavo adesso mi consegnano che forse non sarò in ordine con la tenuta di linea e non mi azzardo a risalire sulla tradotta che parte con canti e saluti io aspetto sempre che si faccia vivo l'ufficiale che mi ha scaravoltato giù dal treno ma niente e allora penso a quello che mi conviene fare ormai che non sono partito se mi presento al comando nessuno ci crede alla faccenda del braccio mi pigliano per disertore e mi fucilano l'unica cosa è tagliare la corda poi farò un piano così di nascosto mi metto nei campi e cammino fino a stare lontano dalla stazione mi presento a un contadino e dico che sono in viaggio per casa ma siccome ho finito i soldi che mi tenesse due giorni a fare le opere poi sarei ripartito infatti il resto aiuto la famiglia nei campi intanto penso quei gradi li conosco dico io deve essere il capitano la valle e se è stato lui si farà vivo allora mi conviene presentarmi l'unica cosa è di non parlare mai finché non parla lui così vado al quartiere e mi presento sono il soldato Cervi Alcide dico fatemi parlare il comandante il picchetto mi vede in tenuta di linea e crede che mi abbiano rispedito indietro per una cosa urgente così mi fa entrare dal generale perché non sei partito con gli altri chiede il generale appena mi vede e io zitto il generale mi rifà la domanda e io niente non faccio parole chiama il colonnello e ci prova anche lui ma io non parlo finalmente entra il capitano che davanti al generale fa come gli altri e non si scopre io gli guardavo la manica era proprio lui allora il generale si stufa e dice che verrò giudicato se sono pazzo o se faccio il finto tonto e se sono pazzo mi manderanno in manicomio ma il capitano dice signor generale conosco il soldato Cervi e so di queste sue smemoratezze vorrei prenderlo io in tutela come attendente il generale non capisce che se ne faccia il capitano di me come attendente ma per togliersi l'impiccio non si oppone così il capitano mi porta a casa e quando siamo soli mi fa adesso Cervi parlerai sì signor capitano dico io perché non sei partito con gli altri mi avete tirato giù voi dal treno e come te ne sei accorto dai gradi signor capitano come mai non mi avete lasciato partire perché sei un buon ragazzo Cervi e invece quella è una brutta guerra così non vi dii Boeri e ringraziai sempre quelle cinque lire che prestavo ogni tanto al capitano quando tornai a casa sentii parlare i contadini di socialismo e di Camillo Prampolini me lo ricordo a Campegine quando venne a inaugurare una cooperativa la sala era piena di lavoratori e ce n'erano anche fuori aggrappati alle finestre per vedere e sentire Prampolain l'uomo che parlava del progresso e dell'unità era un Cristo alto con la barba grigia gentile e dolce di voce parlava semplice e chiaro faceva dialoghi e raccontava parabole a un certo punto disse che i contadini si lamentano dei padroni ma che sperano sempre di farli divenire più buoni e amici dei lavoratori illusione diceva perché non bisogna vedere la colpa solo nel padrone tizio e caio ma anche la colpa di questa società malmessa e l'unico modo per non avere padroni cattivi è di non avere padroni questo pensiero era la stessa natura mia e fu poi quella dei miei figli così diceva le parole ricordo a memoria quando finì di parlare sembrava che venisse giù la sala la gente diceva evviva prampulain e un bracciante di caprara andò al tavolo della presidenza con un neonato e chiese a prampolini di battezzarglielo prampolini diplomatico dice che per battezzare religiosamente c'è la chiesa che lui poteva battezzarlo solo politicamente e alla putina in fasce diede uno schiaffetto e disse la chiamerai libertà ma non dappertutto andava come a campegine una volta prampolini doveva tenere un discorso a canolo di correggio che ancora stava sotto la tonaca del prete appena arrivò tutti i contadini e i sagrestani a correre di appresso a tirare di sassate e a gridare dai all'evrum dagli alla lepre di prampolini poi lessi un libretto che si chiamava la vera religione era fatto su un colloquio tra una contadina di nome Caterina è un socialista perché dovrei essere mandato all'inferno dice il socialista solo perché sono di un'altra idea tu che sei buona non mi ci manderesti mica figuriamoci Dio che è più buono di te il più grosso peccato è quello di non sopportare che i nostri fratelli la pensino in religione diverso da noi e puoi davvero pensare Caterina che Dio voglia mandare all'inferno tutti questi milioni di uomini non cattolici così veniva insegnata quella religione umana quel rispetto degli altri quel parlare civile e in più l'organizzazione e l'unità associatevi o contadini era la sua parola d'ordine e in un altro dialogo con Caterina il socialista diceva per migliorare le vostre condizioni c'è una sola via la fine della concorrenza tra voi l'associazione e questo sembrava tutto ma poi venne la rivoluzione russa e si capì che tutto non era la predicazione era giusta ma lì avevano preso lo Stato e andai al primo comizio di Prampolini dopo i fatti del 17 per sentire che diceva ci fu in piazza della libertà e la gente voleva la fine della guerra come avevano fatto i russi e Prampolini non prese subito una posizione ma la gente lo interrompeva e diceva a Cvol Lenin ci vuole Lenin perché i lavoratori aspettavano di sapere che si doveva fare per mettere fine alla guerra per andare al potere e Prampolini rispose che i fratelli russi avevano trovato la via buona senza Prampolini e senza Massarenti oggi l'Emilia non sarebbe così avanti nel progresso perché i primi socialisti ci hanno insegnato una religione che bisogna essere legati al popolo mica con le prediche ma con l'organizzazione fare bene per noi vuole dire organizzarsi e organizzarsi vuole dire non essere superbiosi ma modesti nella massa che fa tutta insieme aiutiamo a crescere i bambini senza stenti e malattie aiutiamo i lavoratori invalidi facciamo nascere gli asili e le scuole diamo lavoro noi organizzatori degli sfruttati e dei senza lavoro è perché vogliamo bene al prossimo col far nascere le cooperative le mutue le organizzazioni politiche le bandiere dei proletari questa religione è tanto più forte se non rinnegano i contadini benestanti i conduttori di fondi che nella nostra provincia non sono pochi da noi più uno va avanti e più dà io ho cominciato da bracciante e poi ho fatto il mezzadro e quindi il fittavolo ora sto comprando il fondo con un prestito bancario che sconterò in trent'anni ho ipotecato il latte per tre anni ma la mia famiglia più è andata avanti e più ha dato quando i figli erano piccoli e noi miglioravamo le condizioni io dicevo sempre siamo signori e i miei figli sotto il portico saltavano e cantavano siamo signori siamo signori si sentivano signori ma hanno sempre lottato da proletari così le religioni si giudicano se cioè sono un pensiero stabile Giuda ha tradito perché ha avuto i soldi e oggi la religione si sciupa perché ci sono i ricchi che offendono il Vangelo dei poveri invece Gesù ha detto a chi più ha più sarà chiesto la moglie e i figli mi sono sposato nel 1899 il primo figlio l'ho avuto nel 1901 Zilindo nel gennaio del 1903 si è venuta una bambina nata morta e nel 1904 Antenore nel 1906 Diomira nel 1909 Aldo nell'11 Ferdinando alla fine del 12 Larina nel 16 Agostino nel 18 Ovidio nel 21 Ettore io ho sempre pensato che nella vita uno deve fare quello che gli piace senza paura questo è il mio pensiero quando vado a Campegine non tiro per la strada attraverso i campi perché mi piace guardare le colture eppure la strada per Campegine è tritta come una riga ma Aldo diceva che il babbo ha trovato la scorciatoia e se uno fa un lavoro che non gli piace dimagrisce e non rende più così è stato per i figli mi piaceva averli e molti maschi ne ho avuti sette e mi hanno dato ricchezza e onore ci ho messo tanto per tirarli su con tutti i San Martino che abbiamo dovuto fare e mentre crescevano mi davano allegria ma non li ho mai picchiati solo una volta diedi uno schiaffo a Gelindo perché si era perduta la passarella di un fosso e tutti dicevano che era stato lui ma Gelindo si prendeva sempre tutte le colpe perché dicevamo chi ride per primo è stato e lui rideva subito quello schiaffo se lo è sempre ricordato e anche da grande mi diceva ogni tanto papà non sono stato io a togliere l'ascia io scommetto che l'istante prima di morire pensando a me avrà detto papà non sono stato io e non potevo soffrire che rimanessero le bide sulla strada un giorno ce n'era una grossa e quattro dei miei giocavano sul sentiero portate via quella bida ho orlato ma quelli niente togliete quella bida ho detto e allora hanno preso uno zeppo e hanno diviso la bida in quattro spicchi poi hanno fatto il trasporto era rimasta lì la porzione di Ovidio che non ne voleva sapere ho dovuto prenderlo per l'orecchio e avvicinargli la faccia alla bida ma lui continuava no tanto non la prendo è più grossa delle altre così gli ho dovuto infilare il naso dentro e allora la presa caro Ovidio Aldo quando trovava un pezzetto di carta lo dava alla madre che doveva leggere sempre la stessa frase seria biglietto di Aldo per andare alla recita e che ci vada anche Gerindo Aldo canzonava ai fratelli e si metteva il biglietto in tasca come un signore ma alla fine ci andava sul serio alle recite insieme a Gerindo e gli facevano fare le parti e li mettevano sui cartelloni anche fuori paese Aldo poi si industriava nei giochi quando andavamo a raccogliere l'uva metteva tanti paletti per terra e li legava coi fili e poi ci faceva il telefono un'altra volta lo trovammo dietro la casa che aveva messo tante fascine in discesa l'una dall'altra era la funicolare e sotto ci stava la miniera Ettore era il più piccolo e quando veniva sui campi l'erba gli era più alta lui ci si nascondeva dentro e poi diceva pianino non ci sono più e allora gli altri dovevano dire ma chi lo dice alla mamma che Ettore non c'è più come si fa bisogna trovarlo e si davano alla ricerca e guardavano lontano apposta per far finta di stentare a trovarlo e lui ripeteva con la voce più furba non ci sono più alla fine lo scoprivano e dicevano ma guarda dov'è e lui rideva e schizzava via e sempre Ettore il più piccolo quando lo portammo a mietere la prima volta andava presso alla falce e correva per star dietro ai fratelli bisognava falciare fino a che si arrivava al prato finché si ritrovava il verde e allora Gelindo il più grande per tenerlo su di morale gli diceva ogni tanto vedo un verdino e lui credeva sempre di essere arrivato al prato così non mollava la falce e quando si ritornava a pranzo Gelindo diceva che Ettore aveva falciato fino in fondo così anche i grandi non mollavano e il putino imparava ma il grande spasso dei bambini erano le fole della madre io non gliele ho mai sapute raccontare perché era brusco e invece adesso ho imparato e le dico ai bambini nuovi la madre aveva più fantasia di me lavorava più col cuore andava avanti alle cose io le dicevo sempre tu sei Marta e Maria tutte e due insieme perché quando Gesù racconta delle due donne che una lavorava sempre con le mani e l'altra con la mente fervorosa diceva la mia predilezione è per Maria che conosce le vie dello spirito e lei era tutte e due perché di sera lavorava fino alle undici e poi fino a luna studiava e leggeva e fantasticava era timida e dolce aveva occhi che non reggono alla vista di questa terra e sapeva profetizzare per questo raccontava bene le fole anche lei aveva i suoi numeri come negli spettacoli e i figli glieli chiedevano sempre quelli dicevano mamma raccontaci quella della nonna che non voleva mai dormire e lei raccontava c'era una nonna che non voleva mai andare a letto e invece la sposa giovane sì e la nonna le diceva sempre ma è presto stai ancora un poco e quando la sposa andò a trovare i suoi gli chiesero come va nella nuova casa non c'è male se non ci fosse la nonna che mi fa stare alzata allora il fratello maggiore disse vengo io una sera e gli farò perdere l'abitudine infatti viene e alle nove dice che deve andare a dormire perché i suoi usavano così e la nonna sempre col solito verso ma aspetta ancora un poco è presto per andare a dormire lui non sente ragioni e se ne va ma un passo indietro il fratello maggiore aveva detto alla sorella di spostare un mattone sul soffitto che era poi il pavimento del fienile lui fa finta di andarsene e invece va nel fienile con una cesta di piume e una bottiglia di saba se ne cola un po' giù su un calzone e poi ci appiccica sopra le piume sposta il mattone cala la gamba pennuta dentro il buco del soffitto e grida brutta vecchia che te fila vattene a let che le sira e la matena sterta le ve singa tant che ne da scer me son l'angelo e tirava giù il mattone e la vecchia scappava a dormire i putini ridevano quando la madre arrivava alla squadra le eda queste fole la madre le raccontava semplici perché voleva insegnare a rispettare gli altri ed essere larghi di cuore così era il vangelo della madre e i cattivi erano sempre castigati in quelle fole e i buoni erano i più furbi uguale faceva con i figli quando lavoravano bene mi faceva regalare dieci lire ai tre maggiori e cinque ai più piccoli e a santa lucia organizzava la scarpa nel caminetto col fiano dentro veniva la santa toglieva il fiano e ci metteva i soldi castagne secche e dolci e i bambini la sera prima davanti alla scarpa chiamavano santa lucia mamma mia porta roba in scarpa mia con la borsa del papà santa lucia verrà la sera genoveffa faceva come la nonna che non voleva mandare a letto la sposa e diceva state qui che leggiamo quelli che gli cadevano gli occhi andavano a letto io la cognata bellocchi che allora era con noi qualche figlio che una sera che un'altra restavamo a sentire genoveffa l'inverno nella stalla nel caldoforte degli animali l'estate nel cortile davanti al cielo stellato quando cominciava a leggere io andavo in cucina a prendere un po' di pane e verza lei voleva sempre la crosta e io allora dicevo la mollica chi la mangia genoveffa leggeva sempre i promessi sposi o la bibbia o i reali di francia o la divina commedia leggeva bene i dialoghi con voci da teatro diversa una dall'altra e sapeva appassionare noi sgranocchiavamo pane e verza ogni tanto facevamo domande su qualche faccenda del romanzo e lei spiegava oppure diceva adesso viene ma seppure leggeva qualcuno di quei libri ogni sera prendeva alla fine i promessi sposi e leggeva qualche fatto come la conversione dell'innominato e il rapimento di Lucia quando si dice dell'innominato che scioglie l'animo dalla cattiveria e torna tra i cristiani Genoveffa faceva gli occhi lucidi e tremava nella voce oppure un altro pezzo preferito era la monaca di Monza questa signora che non sa lasciare l'amore e la vita e soffre nel monasterio la monaca di Monza diceva Genoveffa era una signora di casa nobile che si era innamorata di un paggio e per questo la mandarono nel convento il principe suo padre era autoritario e non sentì preghiera o lacrima della giovane Gertrude doveva prendere l'abito per fuggire agli occhi del mondo e non c'era di che scegliere la Gertrude voleva sempre dire il suo no ma quando vedeva il viso severo e prepotente del padre le scappava il coraggio così dovette murarsi in convento lontana dal mondo più la leggo la monaca di Monza più non la capisco diceva Genoveffa e la rileggo sempre per scusarla ma mi fa fatica anch'io da giovane ero un po' come la monaca di Monza timida e paurosa zelante di Dio e di chi poteva più di me piegavo il capo alle prepotenze perché alla sera nella mia stanza lo alzavo verso il Signore che tutto comprende e vede nel cuore di ognuno di noi abitavo a Caprara nella casa del padrone dove mio padre era mezzadro il padrone veniva solo due mesi all'anno a villeggiare e allora a me toccava l'interarmi in solaio per lasciare a loro il piano e le stanze da letto veniva il padrone con la moglie e i suoi figli e ci guardava come se fossimo carne e formaggio i figli si provavano pure a cavarsi il divertimento con noi ragazze io dovevo ritirarmi in solaio a dormire e ci avevo portato il lettino con le mie poche cose il tetto era ascesa e le travi mi facevano chinare ma pure ci stavo perché erano due mesi e i padroni sono i padroni ma venne una stagione di piogge e a forza di piovere il tetto si sfondò e prima a gocce poi a fontanelle l'acqua allagava il pavimento e rovinava le mie poche cose io mi prendevo raffreddamenti e dolori nelle ossa dissi che non potevo più stare così e andai dal padrone a pregarlo che mi si marciva tutto e poi era anche interesse suo della roba lui disse che soldi non ne voleva spendere e che ci mettesse un po' di lamiera e qualche strisciolina di legno provai quel palliativo ma l'acqua entrava lo stesso a gocce e a filetti ma entrava e dopo un po' con la spinta della pioggia si scollò la lamiera e mi ritrovai da capo a dodici tornai giù dal padrone e gli dissi che la lamiera non teneva che l'acqua entrava lo stesso e che io non ne potevo più lui mi rispose che la lamiera non teneva perché io non ero capace che domani avrebbe mandato il maniscalco a inchiodarla bene ma non ci fu domani né maniscalco perché io persi la pazienza e mi risolsi a modo mio era la sera e dicevo le preghiere come al solito l'acqua scendeva a pisciarello e mi bagnava i piedi allagava il letto dovetti staccarmi dalle preghiere che nemmeno era rispettoso per il signore pregare a quel modo mi alzai e presi una forbice con quella lavorai sul pavimento fino a farci un buco che mi ci volle tutta la notte ma non mi fermai nemmeno un minuto e quando il buco fu aperto che dava sul letto del padrone aiutai l'acqua con la mano per farlo versare abbondante subito sentii un grido della signora e io nuova versata d'acqua con la mano sul pavimento e nuovo gridolino così pure il marito si sveglia e sento discutere i due poi dal buco si vede accendere la luce e stare un po' in silenzio perché è difficile trovare un buco appena fatto che non ha umidità intorno dopo un po' entra in stanza mia il padrone e dice del buco se mi ero accorta e che la signora si era tutta fradiciata io dico di no che non mi ero accorta ma che con quell'acqua tutto il pavimento si crepava e che se quella notte aveva avuto un po' d'acqua un'altra volta avrebbe avuto me e tutti i mobili sulla testa il padrone guardò il soffitto e disse bisogna proprio che lo faccia riparare hai ragione genoveffa e così fecero subito il giorno dopo mia moglie raccontava questa storia e ancora non si capacitava come mai lei che era timida e riguardosa si fosse presa l'ardire di bucare il pavimento ma capii che non potevo nemmeno più pregare la sera diceva con quell'acqua che cadeva e allora dovevo mettere giudizio al padrone se non con le buone con le cattive nella divina commedia leggeva sempre sul conte Ugolino coi figli che chiedono di mangiare e il padre che non può dargli niente finché qualcuno si addormentava e allora genoveffa chiudeva il libro e diceva inutile che leggo tanto voi state sognando la fine del romanzo non era però soltanto sognatrice lavorava dall'alba alla notte e dormiva poco tutte le camicie i fazzoletti e le maglie e le calze che portavamo le ha fatte lei per otto maschi filava dall'autunno alla primavera faceva metri di tela che poi cuciva così con le mani era sempre occupata ma la testa era in giro per il mondo come suo figlio Aldo all'università del carcere i figli crescevano allegri e forti fin da ragazzi avevano imparato ad essere tutto un collettivo e quando succedeva qualche magagna non si riusciva mai a sapere chi era stato qualcuno si prendeva la punizione al posto di un altro ma non parlavano Agostino veniva su il più bello di tutti e sapeva anche cantare oltre alle recite andavano anche a scuola di canto e lì cominciavano a conoscere le ragazze Aldo e Agostino erano i più svelti a fare amicizia e andavano sempre alle balere dove c'erano le feste da ballo anche i fratelli ci andavano e quando arrivavano in una balera le ragazze dicevano ci sono i cervi e allora erano sette ragazze che partivano dalle braccia degli altri poi tra un ballo e l'altro tutti e sette si mettevano all'orchestra e suonavano e cantavano meno Ferdinando che era negato per la musica e faceva sempre finta di aiutare qualche fratello per l'estate si erano fatta la piscina andavano nel canale della bonifica ci avevano sistemato una specie di pedana dove ci si sdraiavano giovanotti e ragazze loro erano nuotatori bravi e davano spettacolo con i tuffi poi li chiamarono inventori della grappa che allora di grappa se ne trovava poca nei bar e i vini conosciuti erano soltanto Lambrusco di Sorbara e Fortara Nando aveva trovato un procedimento che con lo zucchero e altre cose mischiate sempre studiate dai libri veniva la grappa se ne portavano qualche bottiglietta nelle gite e ai bagni la offrivano agli amici così succedeva che appena usciva qualcosa di nuovo o macchine o cose sportive o di agricoltura loro ne parlavano con tutti e tutti si informavano da loro sempre per quello che riguarda il vino provammo la famosa vite americana che allora era una rivoluzione tutti aspettavano i risultati ma furono magri perché l'uva venne piccola e con poco sugo poi Nando e Gelindo scoprirono che c'era un'altra novità il filtro olandese lo comprarono e con quello il vino non fermentava così anche altri contadini si misero ad usarlo intanto cominciano i fidanzamenti e i matrimoni Antenor incontra al casello una ragazza Margherita che porta il latte tutte le sere alla latteria sociale ci parla varie volte e lei dice che gli è simpatico però ha già uno spasimante che da un po' di tempo non lo vede che non sa dire se gli è più simpatico Antenor o quell'altro Antenor non insiste nemmeno con una parola e dice a Margherita torna dall'altro vedi se ti piace più di me e poi me lo dici la ragazza ci va e dopo qualche sera gli dice no mi piaci più tu così si fidanzano e dopo pochi mesi si sposano Margherita non aveva soldi e non poteva comprarsi nemmeno l'abito da sposa glielo compro io e si fa il matrimonio il viaggio di nozze lo fecero in automobile andarono a fare visita a tutti i parenti la sera però la ragazza ci soffriva a venire a casa nostra diceva ci sono tanti uomini e io solo ragazza come mi ci troverò invece si ambientò subito che i miei la trattavano come una sorella ma insieme ai fidanzamenti vengono anche i servizi di leva Aldo parte nel 29 e lo mettono a distanza a Conegliano lì si fa molti amici parla chiaro contro il fascismo e tutti lo ascoltano volentieri ma c'è anche qualcuno che gliela tira è un certo sergente Colla fascista che aspetta l'occasione buona per rovinarlo e l'occasione viene Aldo è di sentinella una notte alla polveriera e gli capita un fatto quasi uguale al mio quando ero a Torino militare si avvicina alla postazione il sergente Colla che non risponde alla parola d'ordine chiesta da Aldo si avvicina ancora di più lo sciagurato e Aldo intima l'Alt ma quello come niente si fa ancora sotto finché spara e lo colpisce a una mano la cosa va a finire dal colonnello che punisce il sergente da 15 giorni ad Aldo di rigore se non che la moglie del colonnello che aveva Aldo in molta considerazione gli dice perché hai messo Cervi in prigione che è innocente il colonnello ci ripensa e libera Aldo ma il sergente Colla che aveva amicizie fascista importanti denuncia il colonnello all'alto comando così Aldo viene processato a Trieste gli danno 5 anni per aver sparato contro un superiore e dopo il ricorso in appello gliene lasciano 3 ma anche quei 3 erano troppi per noi allora prendo carta e penna e scrivo al re gli faccio notare che mio figlio aveva rispettato gli ordini e che si era comportato da soldato fedele alla consegna che quindi suo maestà lo graziasse la lettera la do a un avvocato in città perché seguisse lui la pratica mi chiede 12.000 lire che allora erano tante eppure le trovo perché per i figli non si spende mai abbastanza e aspetto ma la risposta non viene né dal re né da nessuno così torno dall'avvocato che incolpa alla burocrazia e mi dice di scrivere un'altra lettera io la scrivo e aspetto un altro mese così alla quarta lettera che facevo stavo ancora col figlio in carcere e io a pagare l'avvocato allora mi comincio a insospettire dell'avvocato e chiedo il vero perché delle nessune risposte se c'era un perché l'avvocato fa il misterioso e dice vedi Cervi finora te l'ho tenuto nascosto ma guarda che non c'è niente da fare con quelle lettere perché ho saputo che tuo figlio è in carcere è di cattiva condotta che l'avvocato fosse poco furbo si capiva perché non conosceva mio figlio che non poteva tenere cattiva condotta allora io faccio finta di niente e scrivo al direttore del carcere di Gaeta questo mi risponde subito e dice che mio figlio teneva condotta ottima e che lui non ha mai sentito che fosse indisciplinato così mi viene il sospetto su tutto l'affare e vado all'ufficio postale dove c'era un impiegato antifascista che mi dice servì è inutile che scrivi lettere al re perché tanto qui le bruciano prima di partire l'avvocato lo sapeva e teneva a lungo il gioco per fregarmi i soldi ma io lo metto con le spalle al muro e minaccio la denuncia poi riunisco la famiglia e facciamo consiglio si decide di andare dall'onorevole Bigliardi che stava a Parma e l'avevo avuto come padrone a Olmo l'onorevole era fascista ma mi voleva bene e promette di portare lui personalmente la lettera re che però glielo dovevo dare alla stazione quando partiva se no se la dimenticava a Parma io mi faccio trovare alla stazione e lui già si era dimenticato e mi dice Cervi che fai qui sono venuto a salutarla onorevole e gli prendo la valigia ma lui è sopra pensiero poi quando sale sul treno dice ma Cervi non dovevi darmi una lettera e io subito la tiro fuori dalla tasca così la cosa gli è rimasta più impressa e infatti due giorni dopo mi arriva subito la risposta che l'onorevole aveva inoltrata la cosa al re che aveva promesso un interessamento così aspettavamo speranzosi specie la madre che era così attaccata ad Aldo e finalmente dopo 25 mesi di carcere il 31 maggio del 1932 arriva in cortile un parente di Cadelbosco che incomincia a prendere le cose alla larga a dirci che Aldo sarebbe tornato presto così ci preparava alla notizia finché dice che Aldo è da noi e allora andiamo tutti sulla strada per Cadelbosco i figli corrono avanti io e la madre andavamo appresso finché lo incontriamo quasi a metà le parole furono poche e i baci tanti poi lo guardiamo bene io e la madre il ragazzo è trasformato è diventato uomo ha un'espressione grintosa e gli occhi illuminati dopo Aldo ci prepara una cattiva notizia dice che deve finire il servizio militare deve tornare a Conegliano per il congedo e non sa se gli scaleranno qualche mese e come si metteranno le cose la madre rimase addolorata ma io dico l'importante figlio è che sei uscito dalla galera poi ti faremo uscire anche dalla ferma adesso godiamoci gli otto giorni così torniamo a casa e si fa festa Anteno le dice a Margherita anche le mura girano per la contentezza e siccome in carcere c'era stato tutti fanno domande su come si trovava e lui rispondeva di mezze parole senza piacere e noi dicevamo che non si era riabituato riprese anche poco il lavoro e tutto il giorno stava sempre sui libri e ne voleva dei nuovi che non si trovavano nelle librerie la madre lo guardava tribolata e gli diceva che cosa ha fatto questo figlio mio che lo vedo così preoccupato allora Aldo capì che doveva spiegare mi disse che voleva parlare a tutta la famiglia la sera dopo cena restammo tutti attorno al tavolo e Aldo mi chiese il permesso di parlare parla figlio gli dissi elevati tutti i pensieri papà mamma e tutti disse Aldo dovete scusarmi se non ho spiegato finora ma è perché devo chiarirmi tante cose il carcere non è poi una cosa tanto terribile per chi sa fare esperienza Andrea Costa diceva una scuola che si apre è un carcere che si chiude è vero ma bisogna dire anche che il carcere è una scuola di verità per chi sa intendere credevo che l'Italia fosse tutta qui gente che lavora un governo che governa è lo sforzo dell'uomo di diventare migliore di conquistarsi il cielo invece c'è un'altra Italia che non conoscevo l'Italia del carcere se aveste conosciuto quanti italiani sono nelle carceri solo perché hanno fatto il loro dovere perché hanno voluto la bontà e la giustizia così oggi chi fa il suo dovere e vuole rispettare i suoi diritti si mette contro lo Stato vedete la storia delle nostre campagne si comincia con le lotte contro la legge sul macinato e restano i morti dalla parte nostra c'è lo sciopero degli escariolanti a Bagnolo e vengono fatti arresti c'è una manifestazione a Reggio per la libertà e il pane e anche lì arrestano e confinano e poi guardatevi qui intorno tu papà pensa un momento alla tua vita hai sempre lavorato prima da bracciante poi da mezzadro e sei migliorato non è per grazia dei capitalisti ma perché in Emilia i lavoratori hanno fatto valere i loro diritti più che in altre regioni eppure noi lavoriamo tutto il fondo fatichiamo quasi dodici ore al giorno abbiamo i rischi del vento dell'acqua della grandine e quando c'è il raccolto viene il padrone che vuole la metà quell'altra tua metà che non ha lavorato il padrone ma hai lavorato tu con le tue braccia e questo solo perché la terra è sua mentre trovebbe dartela allo stato per la ricchezza della nazione e non degli sfruttatori bene il padrone nemmeno conosce il fondo perché lui vive in città e si preoccupa solo di incassare al momento opportuno ti ricordi quando a Olmo venne sul fondo il padrone disse ma guarda che bel gran turco e invece era trifoglio disse beh adesso che abbiamo visitato il fondo possiamo tornarcene a casa e tu gli ricordasti che c'erano altri appezzamenti sempre suoi ma che lui non conosceva così sono i padroni per loro è scritta la massima del Vangelo là dove c'è il forziere là è il loro cuore per il resto per la patria la libertà la giustizia non hanno cuore e voi madre ricordate quando a Olmo eravate incinta di Ettore e lavoravate i campi in fretta negli ultimi giorni fino a svenire per recuperare il mese di letto e di riposo che dovevate fare dopo il parto e vi ricordate di quando eravate a Caprara e i padroni venivano due mesi all'anno per la villeggiatura e voi dovevate dormire in un solaio con il tetto sfondato che l'acqua c'entrava dentro uguale è la lezione che ho imparato nel carcere per riparare il tetto bisogna costringervi i padroni e non soltanto predicare e pregare noi invece finora eravamo disorganizzati e primitivi anche se la nostra famiglia ha sempre tenuto la testa alta davanti agli sfruttatori no non basta pregare e invocare bisogna agire sull'egoismo e sulla prepotenza e questa forza non può venire che dalla coscienza e dalla unità di tutti quelli che lavorano come noi e a voi che pregate madre dico ricordatevi di quando doveste fare il buco nel pavimento voglio dire oltre alle preghiere metteteci anche l'azione perché così il mondo va avanti queste cose disse Aldo e altre ancora specie ai fratelli sul bisogno di studiare l'economia politica per capire ma quella sera nessuno riuscì a parlare dopo Aldo capimmo che non eravamo più una famiglia di contadini e basta e che da quel giorno avremmo lavorato oltre alla campagna insieme agli altri uomini che diceva Aldo anche l'Italia e gli italiani per toglierci il fascismo e l'ingiustizia e capì quella sera e la madre pure lo capì che i figli erano diventati uomini ma intanto Aldo riparte e la madre gli dà ogni ben di Dio e gli dice adesso stai attento non ti mettere nei pasticci che ti rimandano a Gaeta Gaeta è utile una volta risponde Aldo adesso ho bisogno di libertà per fare il lavoro politico e la madre era tribolata perché pensava al militare è in pericolo in libertà si mette a fare la politica come posso stare tranquilla con questo figlio mio ma non disse niente anzi sorrise salutandolo quando fu il 20 agosto Aldo scrisse che tornava in congedo noi prepariamo cappelletti e dolci ma lui non viene aspettiamo qualche giorno e non si ha notizia poi il 25 scrive che hanno ritirato il congedo la madre era disperata diceva non lo lasciano più si vogliono vendicare deve essere quel sergente colla e allora io per calmarla trovo una soluzione sai che facciamo partiamo io e te andiamo a conegliano e parliamo col colonnello vedrai che si risolve la madre fu contenta prendemmo 5.000 lire e viaggiammo tutta la notte genoveffa non aveva fatto mai un viaggio lungo e stava tutta dritta sul sedile senza fare parole e io le volevo comprare le bibite le dicevo di addormentarsi ma lei aspettava solo che il treno arrivasse a conegliano andiamo in caserma chiedo del soldato Cervialdo mi dicono che non c'è che è andato in congedo no rispondo io c'è perché ecco la lettera dove dice che gli hanno ritirato il congedo il caporale chiama il capitano e gli dice il fatto lui pure risponde è andato in congedo io gli faccio vedere la lettera allora chiama il trombettiere e dice raduna i caporali di giornata che trovino il soldato Cervialdo genoveffa intanto si era seduta su una panchina e provava le pene dell'inferno vedi mi diceva non lo vogliono dire dov'è chissà dove l'hanno mandato quel povero figlio ma un reggimento è grande io la consolavo è come una stazione e chi dice un orario e chi un altro bisogna avere pazienza però stavo bene a consolare perché torna il trombettiere e dice che il soldato Cervi non c'è allora il capitano visto che la madre piangeva incarica il sergente di fare le ricerche diventa sera e finalmente vediamo comparire Aldo ci bacia e spiega che il congedo gliel'hanno ritirato ma che però non è più in forza ecco perché non lo trovavano allora è un capriccio che ti fanno dico io bisogna che vado del capitano la valle lui ci toglie il magone e diciamo di stare tranquillo che gli avremmo mandato notizie così torniamo a casa e io la mattina dopo vado a reggio al distretto cerco del capitano la valle ma mi dicono che non c'è più è andato in pensione allora vado all'ufficio matricola e spiego tutta la faccenda il tenente chiama il capo furiere e lo manda a trovare la pratica poi se la studia bene e dice va a casa tuo figlio tornerà il 20 ottobre e com'era l'impiccio chiedo io tu sei un furbo dice lui perché qualcuno lo vuole fare canzonato ma c'è la legge che un soldato lo possono tenere in ferma due mesi oltre il servizio ma non di più così a ottobre lo facciamo rilasciare e il 20 ottobre infatti Aldo torna e per sempre e per sempre La biblioteca di Campesine Aldo aveva detto alla madre giudicherete dalle opere mie più che dalle parole e ai fratelli studiate se volete capire la nuova idea così alla sera i figli leggevano i libri e le donne reclamavano ma non dite mai una parola e loro si scotevano e come hai detto? chiedevano ma nemmeno aspettavano la risposta che già ristavano in lettura poi quando avevano trovato qualche sistema nuovo andavano nei campi a fare la prova un giorno mi spaccarono il prato con un canale tutto storto che andava a curve come una biscia mi arrabbiai perché non l'avevano fatto dritto Aldo aveva fretta di provare il sistema e mi rispose che non faceva niente perché tanto l'acqua non ha mica le corna eppure Aldo non si saziava più soltanto coi libri voleva organizzare qualche amico qualche compagno e creare una cellula prese contatto con un compagno dirigente provinciale e decisero di creare la prima cellula a Campesine nel 33 si riunirono 4 o 5 compagni e venne una dirigente nazionale che tenne la relazione ma le cose non andarono tanto avanti perché era difficile allora organizzare i fascisti stavano in guardia e la gente era un po' distratta Aldo diceva che bisognava fare di più come la talpa e stare acquattati al fondo senza lasciarsi scorgere bisognava lavorare più con la testa diceva e convincere con la cultura politica più che con la propaganda così pensarono di fare una biblioteca approfittarono del fatto che i fascisti allora si davano aria di intellettuali e che il regime aveva detto di creare biblioteche nei comuni presero i libri fascisti e insieme ci misero il capitale la madre la concezione materialistica della storia di Labriola il tallone di ferro e altri libri antifascisti Aldo fece lo schedario e invitò il segretario comunale per la inaugurazione poi aspettò che venisse qualcuno a chiedere libri i fratelli facevano propaganda fra gli amici tra i giovani e le donne che andassero a prendere romanzi libri di tecnica di agraria di meccanizzazione che la biblioteca era nata per loro furono per primi i giovani a chiedere libri andavano da Aldo senza idee precise e uscivano con un libro che Aldo gli aveva scelto poi aspettava ancora che tornassero e allora li impegnava in lunghe discussioni per capire se era solto il dubbio l'esigenza di un indirizzo nuovo e se le discussioni rivelavano qualche aspetto positivo Aldo scriveva il nome del lettore in un suo elenco che racchiuse in breve uno schema di forze antifasciste un giorno alla biblioteca venne una ragazza chiese ad Aldo il fiacre numero 13 di Saverio de Montpain Aldo rispose che proprio quel libro non l'aveva ma che poteva dargliene un altro più appassionante del fiacre e che lo avrebbe ringraziato la ragazza chiese un po' delusa che libro? la madre di Massimo Gorki di chi? di Gorki, uno scrittore russo ma gli scrittori russi sono pesanti io voglio quelli francesi il libro è pesante per chi è leggero di cervello non per te che sei in gamba la ragazza fece un sorriso incantato e Aldo le diede la madre tornò dopo tre giorni e la ragazza disse ecco il tuo libro ti ringrazio hai fatto così presto? la ragazza non rispose ma aveva uno sguardo grave e turbato perché me lo hai fatto leggere? ma è un romanzo come un altro, no? no, tu volevi darmi quel libro perché? perché è bello a me piace ma non capisci che mi hai fatto soffrire? che vuoi fare? i libri non sono mica come le caramelle? se si erano accorti del materiale che gli era passato tra le mani Aldo capì che era troppo guardingo e freddo non c'era pericolo che lei andasse dai fascisti bastava guardarle gli occhi già presi dalla passione di conoscere e le venne incontro perché hai sofferto? non è giusto che una donna così buona debba finire così aveva già il pianto negli occhi sembrava parlasse di una persona cara vedi anch'io da ragazzo provai lo stesso dolore quando l'essi Martin Eden di Jack London si provò a dire Aldo era un magnifico ragazzo e aveva bontà e forza d'animo ma pure dovette cadere quando alla fine si parla di lui che nell'acqua da abbracciate più profonde per annegare anche il mio cuore annegava e rimasi vari giorni ammutolito era morto il mio migliore amico anche per me è così disse Mestre alla ragazza no per te è diverso perché Martin Eden fuggì dalla vita sconfitto la madre è diversa la madre lotta si batte la madre ti lascia un appello se tu lo vuoi raccogliere e che posso fare io non ho mica il coraggio della madre allora tu non ricordi il principio del libro guarda come è descritta ella era alta e un po' curva il suo corpo pesante e impacciato rotto dal continuo lavoro e dalle percosse del marito si muoveva senza rumore e sempre di fianco come se avesse temuto ad ogni istante di urtare qualche cosa era arrendevole triste o sottomessa e per le guance le scorrevano le lacrime Aldo leggeva con voce calda e umana la ragazza lo guardava confortata Aldo lesse ancora altre pagine e alla ragazza sembrava tutto più chiaro ogni tanto diceva sì è proprio così e sospirava finché gli chiuse il libro tra le mani e disse voglio rileggerlo e farlo leggere a casa ma tu insisteva Aldo hai capito che puoi fare qualcosa che cosa posso fare ho tanta confusione adesso guardarti intorno e vedere la ingiustizia guarderò disse seria la ragazza ma per adesso basta Aldo comprese che già molto era entrato nell'anima della fanciulla e che bisognava lasciarla riflettere dopo tanto sconvolgimento che solo i giovani possono capire tornò infatti ancora e lesse altri libri di storia e di politica finché passò all'azione organizzata e un giorno disse che ora era chiaro perché la madre da timida e paurosa era diventata forte e scatenata contro i carnefici del popolo la lotta trasforma l'animo e l'intelligenza così oggi la ragazzetta che voleva leggere il fiacre numero 13 è una dirigente molto in gamba un altro colloquio che merita di essere riportato avvenne tra Aldo e uno studente universitario figlio di un proprietario terriero che era andato per un testo di Alfredo Oriani e invece aveva avuto la concezione materialistica della storia di Antonio Labriola perché Labriola non è nei programmi universitari chiese il giovane perché era un marxista io non sapevo che il marxismo fosse una filosofia pensavo che si trattasse di propaganda politica che faceva dipendere tutto dalle cose materiali così dicono i fascisti ma io ho fatto un'altra università quella del carcere e lì in programma c'era Labriola e il marxismo come? l'università del carcere? è incredibile il fascismo ha cancellato tutto esclamò Aldo che si era messo a passeggiare su e giù per la stanza e non badavo nemmeno più a cautelarsi nelle parole io sono stato a Gaeta condannato dal tribunale militare per una sciocchezza che avevo ragione io e lì ho conosciuto un napoletano che mi parlava di Francesco de Sanctis e di Labriola lo conosci tu Francesco de Sanctis? sì ho studiato la sua storia della letteratura ma dico lo conosci? il giovane si sentiva un po' sotto esame e non rispose voglio dire lo sai tu che de Sanctis è stato in carcere perché era un patriota e diceva che la scuola è la vita e gli alunni suoi con il loro maestro hanno fatto le barricate e certi hanno affrontato il pativolo la deportazione l'esilio queste cose si sono perdute e per questo ti meravigli del carcere dell'altra università e che ne pensi di Labriola? socialismo e filosofia disse il giovane possono stare insieme la filosofia non si può confondere con la politica la verità non può non essere imparziale che il fascismo sta rovinando l'Italia è una verità ci rimette la politica o la filosofia? io credo che ci rimette il popolo italiano se noi stacchiamo la verità dalla politica ma più che agire bisogna chiarirsi le idee cambiare la mentalità degli italiani bisogna cambiare il regime insisteva Aldo ma parlavano due linguaggi diversi e non si capivano allora provò a chiedergli se aveva letto il manifesto dei comunisti che pure era compreso nel volume uno spettro si aggira per l'Europa rispose Beffardo lo studente lo spettro del comunismo io aspetto che gli spettri prendano corpo poi si vedrà il ragazzo era ancora acerbo ancora diffidente verso i comunisti ma quando parlava con altri che non fossero Aldo difendeva il marxismo e lo spettro che si aggira per l'Europa aveva un morboso spirito di contraddizione che gli distruggeva ogni spinta in avanti e lo lasciava spesso in panne Aldo tuttavia lo seguì sempre con grande pazienza ma come in generale avviene per molti intellettuali bisognava che la realtà si incaricasse lei di strapparlo dal chiuso del suo personcino e buttasse fuori da quell'incantato pasticcio di sentimenti e di idee contrastanti la parte buona e vitale del temperamento che non era poca avvenne che il mareciallo dei carabinieri avuta notizia non si sa da chi delle letture socialiste del ragazzo si recasse dal padre per sentire se lui sapeva della cosa prima di procedere all'ossoglimento della biblioteca che poteva compromettere davanti agli occhi del fascio il nome e la posizione dell'agrario quando capitò quella visita il padre chiamò il ragazzo presente il maresciallo e gli chiese è vero che leggi libri proibiti casomai lo dico al prete rispose duro il ragazzo non vedo perché la cosa interessi al maresciallo non è il caso di scherzare ammonì il padre lo sai che certi libri sono proibiti dalla legge io conosco una sola legge la legge dello spirito rispose il ragazzo con uno studiato atteggiamento apostolico il padre nemmeno si soffermò a polemizzare su quegli argomenti del resto difficili per lui e insistè nell'interrogatorio chi ti ha dato quei libri li ha presi alla biblioteca di campegine e non si accorse che passava dallo spiritualismo alla delazione che libri sono la concezione materialistica della storia di Antonio Labriola il capitale di Carlo Marx e che fare di Lenin ma tu papà non puoi capire queste cose è inutile parlarne no urlò il padre bisogna parlarne o finiremo tutti con l'ammunizione o ai confine il maresciallo che voleva salvare convenientemente padre e figlio nonché la sua difficile posizione intervenne rivolgendosi al ragazzo ma perché vuoi rovinarti tu che sei figlio di una persona stimata e benestante che hai un avvenire sicuro lascia queste cose agli spostati e ai sovversivi e allora il ragazzo con tono tribunizio rivolto al maresciallo disse ha mai letto lei il manifesto dei comunisti non sa che la borghesia si sta scavando la fossa con le sue mani e che i proprietari saranno gli affossatori della borghesia il maresciallo era stato colpito in pieno viso dalla frase e non sapeva bene raccapezzarsi se oltre alla biblioteca era stato fatto anche un manifesto ma per prudenza non parlò guardò desolato il padre e molto seccamente disse io ho bisogno di una denuncia altrimenti devo agire da solo ma potrebbero esserci guai per vostro figlio questa frase del maresciallo spinse il padre a fidare ancora nella sua autorità ma senza eccessive speranze se denunci chi ti ha dato i libri avrà il mio perdono e il denunciato se la caverà con una munizione è vero maresciallo l'interpellato annui con la testa anzi con le sopracciglia ma il ragazzo non lo vide nemmeno e so che se avesse promesso di denunciare Aldo avrebbe preso tempo per salvare l'amico poi si sarebbe presentato da lui come esperto rivoluzionario che salva la causa e l'organizzazione così infatti fece e i due rastornati concessero quella sospensiva convinti di aver ottenuto un primo successo intanto Aldo aveva allargato la rete dei lettori ormai i libri circolavano come manifestini di mano in mano di casa in casa e accendevano ai cuori incitavano alla lotta Aldo era entusiasta del lavoro e ogni tanto faceva riunioni di lettori ai quali raccontava la continuazione dei libri cioè parlava della storia d'Italia della posizione dei comunisti davanti alla guerra di economia politica di storia della rivoluzione russa fu appunto durante una di quelle riunioni notturne che piombò all'improvviso il ragazzo alla ricerca di Aldo aprì la porta senza far parola e arrivato al centro della stanza disse devi scappare amico mio la polizia ti cerca i lettori erano rimasti un po' sconcertati dalla scena e qualcuno già desiderava togliere l'incomodo ma Aldo si preoccupò di rassicurarli in modo rapido e inequivocabile non fateci caso disse è un po' esaltato ha gusto a queste cose il ragazzo rimase disilluso e mortificato per quella anticipata malasorte della sua recitazione e senza provarci più gusto raccontò di filato l'interrogatorio del padre del maresciallo e tu sciagurato gli hai detto che i libri li prendevi qui di santo su Aldo come un ciclone come potevo dirgli che la briola l'avevo avuto dall'università se l'università non c'è dopo questa risposta Aldo smise di litigare col ragazzo e preferì rivolgersi ai lettori se quello che dice questo ragazzo è vero e io l'accertarò subito faremo sparire i nomi e i libri più sospetti se scioglieranno la biblioteca continueremo a vederci a casa mia o da altri il ragazzo dopo di allora scomparve scrisse al padre da Parma dicendo che non poteva muoversi per via di certi esami obbligatori e che per quanto riguardava la denuncia non ricordava bene se quei libri li aveva avuti direttamente dalla biblioteca o da altri e che nell'incertezza non si sentiva di far nomi il maresciallo capita la storia andò personalmente da Aldo intimandogli lo scioglimento della biblioteca e allora gli rispose Aldo perché mandate a scuola la gente se poi le proibite di studiare il maresciallo non seppe rispondere a questa domanda lui sapeva soltanto che la biblioteca doveva essere sciolta e che anzi lo ringraziasse se si limitava a quello Aldo intensificò i contatti più di prima tutto sommato il provvedimento poliziesco offrì ai lettori materiale di comparazione tra quello che studiavano e la realtà italiana di allora col giovane studente Aldo perse i contatti per un certo tempo poi gli ricapitò a Campegine tra capo e collo e non voleva nemmeno parlarci ma lui si disse pentito e desideroso di dimostrarlo con lo svolgimento di qualche incarico rischioso che Aldo non gli dette per un certo periodo di quarantena poi gli fece diffondere un po' di stampa fare qualche riunione e si tenne sempre all'altezza del compito ma conservava certi aspetti connaturati al suo carattere una diffidenza intellettualistica nel discutere un accentuato individualismo è però suo maggior vento il fatto che nonostante il peso di questi difetti seppe spingersi nel rischio fino all'estremo fu infatti fucilato dai fascisti a Reggio Emilia il 23 agosto 1944 per avere preso parte ad azioni gappiste la predicazione di Aldo aveva dato frutti anche su un terreno difficile come quello il livellamento delle terre ma anche per Aldo venne il periodo dell'amore ormai lui andava sempre in bicicletta per la provincia a tenere riunioni a diffondere la stampa ma anche se doveva recarsi in tutta un'altra direzione cercava di passare per San Paolo prima lo faceva senza accorgersene poi capico non era soltanto perché lì c'era una famiglia simpatica ma perché nella famiglia c'era Verina una ragazza che a lui piaceva anche Verina provava affetto e ogni sera parlavano lei lo riaccompagnava per la strada e ci scappava qualche bacio ma Aldo fu onesto e le disse subito che lui non era il tipo adatto per lei perché non l'avrebbe mai sposata per due ragioni primo perché lui non era adatto per il matrimonio diceva che un uomo deve poter essere libero di andare avanti nel carattere e di annullare gli impegni che ha preso in un altro periodo della vita secondo perché col lavoro che faceva era spesso via e poi stava sempre in pericolo ma Verina gli disse che anche così lo voleva lo stesso perché aveva sempre desiderato un uomo come lui e allora Aldo le chiese io vorrei un figlio da te tu lo faresti senza che ti sposo Verina disse di sì l'importante era che lui le volesse sempre bene così dopo un anno d'amore Verina rimase incinta Aldo veniva e non veniva secondo gli impegni lui non le dava mai appuntamenti ma si faceva vivo quando poteva e Verina non lo rimproverava mai perché capiva che se voleva tenerselo non doveva rovinargli la libertà Aldo Aldo informò della gravidanza la madre di Verina e questa gli disse voi avete fatto il peccato e voi dovete riparare non c'è peccato né penitenza rispose Aldo Verina mi vuole bene ed è contenta di avere un figlio da me nacque una bambina e la chiamarono Antonietta al municipio fu registrata come figlia di Verina lei aveva un fratello che studiava da prete ad Elmo che era molto amico di Aldo e non lo rimproverò mai per il fatto di lui e di Verina morì prima di ordinarsi sacerdote per una pendicite andata a male sul letto di morte Aldo gli promise che avrebbe portato Verina a casa nostra ma c'era sempre di mezzo la questione del matrimonio che bisognava risolvere la madre poi ci soffriva allora lui che era furbo ci volle accontentare e disse che si sarebbe sposato in chiesa ma al municipio no dico che era furbo perché questo era un trucco in quanto la triplice intesa Mussolini il re e il papa stabiliva che il matrimonio era valido in chiesa e al municipio Aldo ci voleva fare contenti e canzonati ma lì per lì non ci feci caso e parlai col prete che disse di andare dal vescovo sua eccellenza non mi voleva ricevere perché aveva da fare allora disse al segretario che io volevo chiedere al vescovo la dispensa per potermi prendere una moglie di più perché con quella sola che avevo la notte sentivo freddo sua eccellenza mi ricevette in un lampo e mi trattò con voce dolce e allora buon uomo che avete da dirmi e mi fece un bel sorriso strizzato come si fa coi matti vede signor vescovo è che mio figlio Aldo vuole sposarsi solo in chiesa ma non nel municipio e ci vuole il suo consenso ah è per questo fece il vescovo che aveva capito l'invenzione delle due mogli ma lo sapete che non si può e perché non si può non siamo libera chiesa in libero stato lo so ma non si può non è valido la legge del matrimonio l'ha fatta Cristo e Cristo non è mai tornato in terra a cambiarla io ero andato in oca e il vescovo girava l'argomento allora gli voglio raccontare un fatto al mio paese c'è una vedova di guerra che si è sposata con un vedovo ma non voleva perdere la pensione e se andavano a registrarsi in municipio gliela toglievano allora sono andati da un prete conoscente che li ha sposati così in chiesa e basta e la pensione ancora la prende ma che figura ci fa la chiesa davanti allo stato deve fare di nascosto se vuole accontentare qualche cristiano per colpa della triplice intesa così feci venire figlio moglie e nipote a casa mia senza sposarsi arrivarono un giorno di dicembre sotto le feste con un birroccio che portava famiglia e biancheria e questo fu lo sposalizio poi venne il matrimonio anche per Agostino lui andava nelle balere e in una di queste conobbe la Irnes una ragazza bella e spiritosa che le piaceva sentir cantare la romanina da Agostino lui una sera che gli era capitata a tiro la baciò ma lei disse che quegli scherzi non le piacevano e che se voleva diventare il moroso doveva smettere di fare il moscone con le altre ragazze la casa di Irnes era sulla strada che porta a Caprara e Agostino faceva finta di essersi preso la passione mia che non camminavo mai per la strada e incontrava Irnes nei campi ci furono subito i risultati perché la ragazza nei lavori batteva la fiacca sudava e sua madre capì che era incinta Agostino disse che l'avrebbe sposata subito ma i genitori di lei preferirono di no per il momento perché avevano la sfogliatura degli olmi e la Irnes non poteva lasciare il lavoro allora Agostino disse che era disposto a sposarsi e restare per un anno a casa loro come aiuto ai lavori ma i genitori risposero che loro erano sicuri di lui e che aspettassero così dopo circa un anno si sposarono e Irnes venne a casa nostra poi toccò a Gelindo ma veramente lui si è sposato prima di Agostino si innamorò di Yolanda Bigi che abitava a Caprara si vedevano in comitiva lui che era sempre un buffone le diceva io vado in qua e in là ma quando ho fissato la mente ho fatto un'idea ferma si può stare tranquilli eppure era un gran timido non ebbe il coraggio di farle la dichiarazione e gliela scrisse per lettera da allora la relazione diventò complicata perché Gelindo dovette operarsi di appendicite a poviglio lei lo andava a trovare avevano deciso di sposarsi nel 33 ma in quell'anno si sposò Antenole che lo anticipò sul tempo e loro dovettero rimandare all'anno appresso si vedevano il giovedì e la domenica a casa al cinema andavano una volta all'anno quando c'era la sagra l'anno appresso si sposarono e così la famiglia cresceva sempre questa è la storia dei matrimoni dei figli la terra che lavoravano invece ha tutta un'altra storia sempre di crescita si intende ma più faticosa fino al 34 siamo stati a Valle del Re sul fondo di proprietà della contessa Levi sotto casa come mezzadri i patti della mezzadria erano fregaroli perché il contratto si poteva pure firmare ma poi c'erano tanti altri nota bene che a forza di togliere non ti rimaneva niente e poi noi avevamo i concetti nostri dell'agricoltura e con la mezzadria c'era sempre il padrone che non voleva uno che conosce l'agricoltura emiliana sa che la maggiore produzione sta nel latte che il capitale sono le vacche ma tutto dipende dal foraggio che deve essere parecchio e di buona qualità così il latte viene abbondante grasso e saporoso mi fanno ridere gli americani che hanno voluto fare il formaggio reggianito voi potete copiare quanto vi pare ma il nostro formaggio non lo potete copiare nemmeno le vacche né la terra né il sole e poi il contadino emiliano è difficile da copiare come tutta la tecnica e la terra infatti se l'assaggiate il reggianito c'è una differenza quel grana come tra una bistecca di manzo e una gomma americana voglio dire che la qualità è una cosa importante ma la quantità poi è la prima cosa io ho fatto un corso di agricoltura qui a Campegine dal professor Guardasoni c'era un gran discutere su quanta erba si deve dare alle mucche allora io dissi che alla mucca gliene davo finché ne prendeva perché una parte deve andare alla bestia come alimento suo e un'altra è per il latte così ero arrivato a dare 6-7 forcate di erba al giorno per mucca e ogni forcata portava 15 chili il professore disse che l'esperimento era buono e da far conoscere queste cose vanno bene ma guardate un momento la bassa reggiana dalle parti di Campesine dove stiamo noi sono tutte gobbe e buche e con una terra così il foraggio non viene bene perché l'irrigazione è difettosa l'acqua stagna nelle buche e fa il marcio il foraggio viene poco e cattivo il latte magro e misero il contadino povero e disperato Aldo studiava sempre come si poteva fare per cambiare metodo e leggeva libri era abbonato a riviste di agricoltura e alla riforma sociale che era diretta da Einaudi lì c'era un articolo che parlava dei terreni come i nostri a gobbe e buche e spiegava come si poteva livellare Aldo progetta un piano insieme agli altri poi dice ho fatto un calcolo una violca di terreno livellato produce foraggio per 50 quintali di latte all'anno per ogni mucca invece una violca di terra come l'abbiamo adesso la foraggio per 20-30 quintali di latte in questo caso non c'è resa e il contadino rimane schiavo della bestia quindi bisogna livellare d'accordo dico io ma i mezzi per fare lo scasso chi ce li dà previsto risponde Aldo facciamo domanda all'ente bonifica per una quindicina di vagoni con binario e la bonifica te li dà chiede Ovidio certo che li dà perché c'ha l'interesse a noi serve l'acqua loro ci stanno per distribuire l'acqua e l'affare è fatto approvato il piano passiamo all'organizzazione ma il padrone ha avuto sentore della faccenda e ci fa chiamare ci vado io con Aldo e lui dice ma che ci volete fare su quella terra il livellamento dice Aldo per la produzione maggiore a voi si è livellato il cervello io questi rischi non li corro sono cose studiate e sperimentate non c'è rischio insiste Aldo per me la terra va bene così mio padre così me la data e non si è mai lamentato voi volete studiare studiate sulla terra degli altri sulla mia no ma la rendita vostra raddoppierà abbiamo fatto i conti non andiamo alla cieca meglio un uovo oggi che una gallina domani io non voglio rischi e basta allora parlo io che fino allora sono stato zitto se così deve essere signor padrone noi le possiamo dire che non rinunciamo alle idee e faremo San Martino prenderò un fondo in affitto e basta con la mezzadria perché non voglio più stare a mezzo con chi vede solo i pochi soldi maledetti e subito il padrone fa la tigna e noi diciamo che tra un mese sgomberiamo il fondo io insieme a Gelindo mi metto in cerca di un altro terreno e lo trovo alla casa nuova o campi rossi di gattatico è il fondo dove stiamo adesso come quello di Valle del Re era gobbe e buche ma non si impressionava anzi se lo avessimo trovato dico per dire uno liscio e piano forse non l'avrei preso perché ormai volevamo vedere i frutti del livellamento il nuovo padrone ce lo dà in affitto basso perché a gobbe e buche tutti c'erano abituati ma lì c'era un po' di segerazione e nessuno lo voleva prendere faceva 65 biolche e l'affitto era di 190 lire l'anno per biolche prima di firmare il contratto io riunisco la famiglia e dico che ci sono da livellare 65 biolche cioè 200.000 metri di terra significava un lavoro forse di qualche anno e sacrifici enormi tutti anche le donne furono d'accordo purché si finisse con la mezzadria che non dava entusiasmo al lavoro e poi chissà dicevano le donne forse un giorno il fondo sarà nostro e dei figli e se avrete queste idee dicevano a noi uomini cavatevi la soddisfazione così andammo io e i figli a fare il contratto il natalio leggeva gli articoli alla sveltina per arrivare alla firma perché pensava che tanto noi non capivamo a un certo momento però c'è un articolo che non suona mica bene dice che nella stalla ci devono stare almeno venti capi di bestiame mentre io l'avevo misurata e ce ne stavano sacrificati otto allora dico e dove ritengo venti capi sotto il letto la stalla è piccola e quell'articolo deve essere stralciato ma tanto è una formalità dice l'avvocato che voleva continuare a leggere no che formalità dico io carta canta e io dormo tranquillo quell'articolo non lo voglio e dopo un po' di tiramolla l'articolo fu tolto e il rogito firmato e così facemmo San Martino in una giornata di novembre il mese di San Martino il carro grande era già carico di letti e mobili sedie tavoli e materassi poi c'erano le bighe con l'aratro le zappe le falci le pale e tutta la falegnameria Anteno le pensava al trasloco dei polli e li tirava su in alto a Margherita che stava in cima al carro Agostino caricava le sementi e i sacchi di Gran Turco Fernando portava ad una ad una le cassette per api e siccome non si era messo neppure la maschera che già gliel'avevano caricata in qualcuno dei carri teneva gli alveari lontano un metro dalla faccia non abbiamo lasciato niente chiedeva la madre che frugava in tutti gli angoli no mamma non abbiamo lasciato niente rispondevano le nuore che avevano meno pena a lasciare la casa noi maschi poi non sentivamo nessuna sofferenza che quella valle non la meritava doveva restare così a gobbe e a buche il primo carro prese il cammino e dietro gli altri io e Cenoveffa avanti sul birroccio poi i carri con le donne e i bambini in cima dietro le bestie e intorno avanti e sempre cambiando posto i sette figli in bicicletta era un corteo di addio e i vicini contadini ci salutavano e ci facevano auguri ma tra loro me l'immagino che dicevano dove vanno dove vanno con quelle idee in testa bisogno di aiuti eppure prendete questa terra e la trasformate fatene un appezzamento modello e vedrete che darà più degli altri il problema è di cervello e di volontà Aldo parlava come il suo impianto per la teleferica o quello per il telefono mi sembrava un gioco da bambini io dissi ma vedremo intanto sistemiamoci nella casa ma anche dentro alla casa i figli si affacciavano alle finestre e dicevano questo è il deserto del Sara si dovrebbero piantare ulivi sulle gobbe e viti nei fossi ma ci facciamo ridere dietro intanto Aldo e Gelindo studiano per il livellamento poi una sera ci mettiamo tutti a discutere ci sono 65 biolche più di 20 ettari per tutto un periodo non avremo raccolto dice Ovidio che importa risponde Aldo poi avremo il doppio e ogni anno sarà di più la discussione tornò sulla questione dell'acqua non bisognava ricascare in tutto sull'ente bonifica allora Ferdinando fa una proposta c'è un pozzo in mezzo al fondo è secco ma si può riattivare e chi ci sta là in fondo a lavorare dice Antenere io risponde Ferdinando e nessuno dubitava così decidemmo di provare l'esperimento del pozzo Fernando si fece tirare giù con una corda a 20 metri sotto terra ci stava tutto il giorno e faceva come i palombari quando voleva ritornare su strattonava la corda da sotto faceva freddo da gelare ma Ferdinando ci stava tutto il giorno a strappare erbe a scavare sabbia a togliere fango e muschio finché l'acqua si fece trovare e scrittò su prima piano poi più alta finché arrivò davanti a noi fu una grande vittoria e ci sembrava di aver spillato il petrolio adesso bisognava cominciare a livellare andammo io e Aldo all'ente bonifica gli spiegammo la questione oh questa è nuova dice l'impiegato e che ci volete giocare a miliardo sulla terra a miliardo no fa Aldo perché ci vogliono le buche e invece noi le buche le togliamo tutte allora ci costruite un aeroporto così per andare a reggio fate senza corriera insomma ci facciamo il comodo nostro dico io tu dacci questi quindici vagoni quindici vagoni e che siete matti se no il tempo ci ruba troppo sul raccolto e i binari i binari pure eh vedrai che li facciamo scorrere sulla cera sulla cera oh per dio basta dov'è il tuo direttore così Aldo lascia l'impiegato con la bala e infila la porta del direttore dopo un po' torna mentre io spiegavo all'impiegato il sistema del livellamento abbiamo fatto d'accordo dice Aldo però ho dovuto prendere un impegno preciso per l'acqua e il pozzo al principio abbiamo bisogno di acqua in più e il conto torna e tu prendi il contratto che papà lo firma l'impiegato fila dritto in mezzo ai cassetti e tira fuori blocchetti e moduli finché scrive di mano sua su un foglio intestato io ho sottoscritto Cervi Alcide ricevo in uso rinnovamento agricolo quindici vagoni eccetera firmo e ce ne andiamo domani porteranno il materiale la mattina dopo un mucchio di ragazzoli fanno le sentinelle davanti casa e c'è chi è in cima alla casa a fare la vedetta chi corre su e giù esmania di curiosità il pomeriggio arrivano i vagoni e i binari con i camion era una giornata chiara come uno specchio e i miei cantavano e scaricavano la madre stava attenta sull'aia e dava da bere agli operai i contadini vicini facevano finta di lavorare proprio ai confini del mio fondo per guardare la pazzia Fernando si incollava ai binari e li ammontichiava a catastati Agostino si infila dentro un vagone a bere un bicchiere di vino e dice c'ho l'automobile adesso per andare a lavorare e la madre diceva siamo signori e mi guardava infurbita bella quella giornata la più bella della mia vita macchina uomini e campi ecco il progresso figli miei e dove ci porterai o progresso dove ci porteranno le nostre idee pazze che pazzia è questa per voi contadini di Praticello ma sette figli uomini uniti e intelligenti non possono dar la vinta alla fatica tu sei vecchio e puoi anche scoraggiarti loro no il progresso è con loro la sera ci mettiamo tutti a studiare il piano per lo sterro Aldo dirigeva l'impianto vagoni e binari gelindo doveva fare con gli altri fratelli le squadre sterratori e i turni Agostino e io pensavamo ai picchetti per il livello così la mattina principiamo dopo inestati i binari si mise il cavallo in testa ai vagoni ma non ce la spuntava e i lavori finirono sul cominciare i contadini vicini già sentenziavano i servi hanno bisogno della locomotiva così impareranno a fare le cose matte e che allora i padri nostri ci hanno insegnato male ma Aldo e gli altri non si persero di coraggio mi disse Aldo papà compra un torello e vedrai che va un torello non era nei piani ma ormai eravamo lanciati e non ci potevamo fermare la mattina vado alla fiera con Gelindo e compro un buon torello a portarlo a casa ci scappava sempre e andava nei campi a casa lo toccano tutti e lui sguffava e ogni tanto zampava Gelindo che era sempre buffone dice lo chiamiamo Battista così la mattina lo attacchiamo ai binari e se li portava via che era una bellezza il contadino vicino di casa grida uccide non è sciupato un toro così per un lavoro di fatica rispondo e io che sono di razza buona non sono sprecato a faticare i figli ridevano e dicevano adesso a Battista gli facciamo uno straio con le molle vedrai che si riposa e il contadino scoteva la testa intanto le prime gobbe sparivano le prime buche si riempivano Aldo diceva vi ricordate quando giocavo alla teleferica e sotto c'era la miniera eccola la teleferica e qui sotto la terra c'è la miniera Ettore diceva ad Aldo ehi fenomeno perché non inventi una pialla per tagliare le gobbe e Aldo quando ti serve per la fidanzata te la invento e tutto il giorno si lavorava e si cantava eravamo come i soldati che vanno all'attacco con la musica così si sentiva che c'eravamo quando smettevamo di cantare subito il vicino si faceva tra gli alberi a guardare se eravamo scoppiati e noi ricominciavamo a cantare la sera ci riunivamo nella stalla si faceva il bilancio del giorno e si fissavano i metodi di scavo per l'indomani la madre non leggeva più la sera e ci aiutava nel discutere figli miei diceva andate con troppa lena che il lavoro è lungo e vi stanca mamma rispondeva Aldo quando la salita è forte bisogna cominciarla col motore su di giri ma un giorno ci trovammo in un bel pasticcio andiamo a sterrare una gobba e ci troviamo il sasso scaviamo ai lati per vedere dove finisce e spuntava solo la cima perché sotto c'era un macigno trovammo con le leve ma non viene Ettore da solo prova con un binario ma si dovette togliere pure la gobba sul binario non c'era che farlo saltare ci mettiamo a preparare il tritolo e la miccia intanto perdiamo molte ore Aldo prova la miccia poi fa allontanare tutti e dà fuoco un botto da crepare le orecchie perché la bomba era fatta un po' artigiana e i contadini corrono a vedere e dicono che i cervi sono saltati in aria anche i carabinieri vengono e ci vogliono denunciare per fabbricazione clandestina di bombe Aldo ci parla e i carabinieri ci diffidano soltanto poi restano avere un bicchiere di vino e si riprende l'assalto erano duecentomila metri di campo da sconquassare e tonnellate di terra da spostare e mentre si scavava e si colmava bisognava dare alla terra la pendenza giusta per far scorrere l'acqua senza intoppi quello era il difficile perché una volta successe che un pezzo di campo venne fuori con un'altra pendenza e toccò rifare il lavoro così passavano i mesi e le stagioni noi eravamo sempre allo sterro e Battista tirava i vagoni avanti e indietro proprio come una locomotiva poi quando fu tutto livellato non ci fermammo neppure a guardare la terra liscia e para che bisognava fare i canali di scorrimento innestati ai collettori anche per questo avevamo i piani da ingegneri con tutta la rete giusta perché l'acqua irrigata un campo si buttasse nell'altro e poi fosse raccolta senza fermarsi e marcire così altro lavoro di misura e di picchetti e lì ero specialista perché avevo occhio poi finalmente l'acqua quello fu un altro giorno di vittoria per noi contadini come la prima colata e per gli operai avevamo invitato tutti i vicini e quelli dell'ente bonifica e fin anche i carabinieri alle bestie avevamo messo i fiocchi a Battista il Vittorioso una bella corona al collo tutti erano sull'aia e con mia moglie facevamo gli onori di casa le donne avevano preparato i cappelletti l'erbazzone e l'ognocco poi vino a volontà i vicini giravano per il fondo e pestavano con i piedi per sentire se il terreno era saturo e poi sentenziavano non c'è che dire non c'è che dire il maestro diceva se voi aveste studiato sareste ingegneri e Agostino rispondeva queste cose le abbiamo prese dai libri perché quelli che hanno cultura non le praticano poi facciamo mettere tutto vicino alla casa e i figli si danno da fare intorno al pozzo per imbucare l'acqua nei canali l'acqua scivola come l'olio e comincia a funzionare il sistema entra nei canali va nei collettori e Aldo spiega perché e tutti appresso all'acqua un po' di corsa finché l'acqua irriga un appezzamento il terreno la beve bene e quella che resta va a finire nei canali di scarico tutto a posto il sogno si è fatto vero e la pazzia comincia a prendere anche gli altri ci danno la mano e fanno bravi non c'è che dire i figli con i vestiti nuovi si prendono i complimenti dalle ragazze io abbraccio mia moglie e le do un bacio lei ha gli occhi lucidi e mi stringe forte poi tutti a tavola si mangia si beve si strilla e si ride il maestro fa un brindisi dice parole gentili e finisce con la storia del contadino che ha le scarpe grosse e il cervello fino io gli rispondo e dico brindo al progresso all'avvenire alla felicità del popolo che da magro e stento come era la terra mia diventa ricco e progredito come sarà domani la terra mia da allora tutti i contadini della zona impararono a livellare e oggi nel reggiano non si trovano più appezzamenti a gobbe e buche politica e teatro adesso che la terra era livellata bisognava lavorare più di prima per guadagnare il tempo perduto così ognuno doveva avere la sua postazione come in guerra Aldo e Antennore nei campi Agostino e Ovidio alla stalla Fernando alla cantina e alle api Gelindo ai maiali Ettore Aldo e io per gli affari e i mercati ma più che con la terra bisognava lottare con gli uomini perché in giro si era capito che eravamo contrari al regime e i fascistici pizzicavano per malignità l'acqua per i campi nostri così livellati era l'alimento primo e c'era quell'accordo con la bonifica che ci stava più geloso della pupilla degli occhi ma a Campegine c'era un dugarolo sciagurato canchero fascista che non ci voleva dare l'acqua per rovinare la produzione un giorno capita vicino al nostro fondo c'era Ferdinando sui campi gli dice che insomma la smette di fregarci sui turni perché se no fa il dugarolo provocatorio se no ti mettiamo giudizio noi gli risponde Ferdinando e allora il canchero mica mi butterai nel canale vero certo che ti ci butto fa sbrigativo Ferdinando e lo getta dentro l'acqua quello guazza un po' guarda impaurito Ferdinando che era un cristone poi se la svigna come un cane bastonato un'altra volta erano venute le donne delle case vicine a prendere il malgasso come si fa da noi tutti gli anni che si danno i fusti dei gran turchi per fare il bucato allora gelindo stava lì con queste donne che faticavano a caricare i malgassi e dice che mussolini era delinquente perché tutto quel lavoro si poteva risparmiare con un regime giusto le donne dicevano che era vero ma una di quelle sta zitta poi denuncia gelindo che aveva detto mussolini delinquente e arrestano gelindo per offesa al capo del fascismo così si arriva al processo il presidente del tribunale chiede alla donna denunciante e a una sua parente testimone se ripetono la frase che avevano sentito gelindo si era preparato un piano suo particolare e in carcere si era fatto crescere lunga la barba per spaventare le donne al processo intanto prima che quelle rispondano le guarda con la barba fuliginosa e con occhi di fuoco quelle si insalsizzano a parlare dicono che non era vero poi la fascistona che aveva fatto la denuncia cade in svenimento così il tribunale le ha condannate pure a pagare le spese e gelindo torna a casa intanto aldo fa sempre attività politica e adesso ha trovato un altro sistema per organizzare la gente ci sono i confinati politici tanti in quell'epoca che là dove stavano gli davano poco da mangiare così aldo va nelle case dei contadini a campegine e chiede se vogliono mandare un pacco a persone bisognose che lottano anche per loro e lì approfittava per fare la predica emiliani sono stati sempre di cuore per queste cose anche gente non politica e quasi sempre il pacco veniva fuori così una popolazione si affezionava e veniva all'antifascismo poi aldo faceva le collette le sottoscrizioni e tutti volevano che andasse a casa loro perché gli piaceva sentirlo parlare anche i fascisti vengono a sapere dell'attività e vogliono farcela pagare mettono su una spedizione punitiva ma poi quelli che debbono venirci a menare non hanno coraggio e allora se la prendono con un nipote nostro che era un buon ragazzo e veniva sempre da noi con l'armonica a suonare anche lui era antifascista e una sera aveva scritto su un muro col gesso viva Stalin e ci aveva messo sotto la sua firma Giuseppe Cervi così i fascisti gli danno un sacco di botte quando noi lo veniamo a sapere vogliamo dare una lezione ai fascisti che se l'erano presa con un ragazzo i miei decidono di andare in paese tutti insieme ma i fascisti non si fanno trovare e il padrone del ragazzo dice per carità non fate niente perché se no poi se la prendono con noi si arriva il 36 e il 9 maggio il federale prepara una grande adunata a Campegine per la proclamazione dell'impero Aldo fa tutto un lavoro tra i contadini gli dice di andare ma di fare una manifestazione silenziosa di protesta così infatti succede sulla casa del fascio hanno messo una radio e si sentono i battimani da Roma allora il federale grida salutatene il duce il fondatore dell'impero gli risponde il silenzio di tutti che poi sfollano la piazza quando era cominciata la guerra Ferdinando andò dal prete a confessarsi e gli chiese se doveva rispondere alla chiamata tra tutti i nostri doveri figliuolo dice il prete c'è anche quello di servire la patria ma perché devo andare ad ammazzare gli abbissini gli chiede Nando non è da cristiani e poi una madre nera vale una bianca e se rispetto la mia perché non dovrei rispettare quella nera il prete non risponde e Gelindo decise da sé di non andare alla guerra d'Africa ma se non andò in guerra non andò nemmeno più in chiesa perché lui diceva che i comandamenti erano dieci mentre adesso ne avevano aggiunto un altro che dava il permesso di ammazzare e di salvarsi l'anima i fascisti tentavano sempre di domarci una volta ci provò il segretario politico di Campegine mandò due giannizzeri a casa mia con un biglietto di chiamata per comunicazioni urgenti al sottoscritto io scrisci di risposta dietro al biglietto se il segretario ha bisogno venga lui da me perché io non ho tempo di fare anticamera che devo lavorare e rimandai giannizzeri indietro con quel biglietto poi arrivò una lettera ad Agostino dove si diceva che gli regalavano la tessera del fascio e che questo era un onore dato a pochi Agostino rispose che non si incomodassero perché non poteva accettare che il fascio spendesse soldi per lui in quel tempo tenemmo nascosti anche molti ricercati politici certi contadini ormai si guardavano preoccupati e qualcuno aveva persino paura a parlare con noi mai più ci seguivano nella lotta così Aldo pensò che bisognava incoraggiare far capire che il fascismo non ci fermava nel progresso e che noi eravamo sempre in testa nel lavoro e nella tecnica a quel tempo i trattori quasi non ce n'erano nella bassa i contadini eravano ciascuno per proprio conto e a fatica invece se avessimo comperato un trattore lo si sarebbe prestato anche agli altri sarebbe stato un modo per rinvigorire l'amicizia con i contadini più sospettosi così Aldo andò a reggio e comprò un Landini 50 cavalli con quello venne fino a casa e imboccò la strada nostra tra gli sguardi di tutti i vicini molti andavano appresso altri correvano per rivederlo passare e guardare bene i cingoli e gli ingranaggi per avere cognizione Aldo salutava tutti in cima al trattore e teneva vicino un mappamondo che girava e rigirava secondo le buche porto a spasso il mondo diceva Allegro e voleva far capire che il progresso tecnico si può fare se si guarda anche fuori dal campo se si hanno gli occhi sul mondo ma voleva dire anche che i lavoratori erano destinati al mondo come il mondo è destinato ai lavoratori intanto si arriva al 1940 e succede l'entrata dell'Italia in guerra Aldo voleva allargare l'azione ma scarseggiavano i collegamenti l'intesa con l'organizzazione si aspettava che venisse qualche funzionario ma i più erano in carcere invece arriva una compagnia di teatro di quelle girovaghe era venuta per prendere contatto con noi aveva mandata il partito davano lavori sociali e romantici come i figli di nessuno la Toscana Scampolo e recitava tutta la famiglia che si chiamava Sarsi il padre vecchio attore due figlie una di vent'anni Lucia e una di dodici un altro figlio era al confino a Sant'Agata de Saro in Calabria sembrava una di quelle compagnie che si trovano nei romanzi di Victor Hugo predicavano la dignità dell'uomo e la liberazione dalla schiavitù i fascisti non ci facevano tanto caso che prima di tutto erano ignoranti e poi perché dicevano di essere una rivoluzione sociale la Lucia Sarsi faceva la tosca e diceva sulla scena certe parole che mi sono rimaste impresse come la mia vita prendetevela che non abbia più l'orrore di vedervi sgherri infami di una più infame tirannia sole vigliacco che le dai la tua luce il popolo capiva e batteva acceso le mani dopo uno spettacolo Aldo con Lucia gli attori e altri giovani discutevano della situazione e studiavano l'economia politica poi c'erano i manifestini da diffondere li portò un giorno la madre della Lucia in bicicletta con la borsa piena di stampa la donna veniva lungo la strada di Praticello e Gelindo la guardava dall'aia e diceva ad Agostino guarda sembra la madre del romanzo di Gorki la donna girò verso casa nostra e consegnò ai miei figli i manifestini anche lei era madre di rivoluzionari e volle conoscere mia moglie così due buone madri una cattolica e una comunista si abbracciarono e si baciarono senza una parola di rammarico quei manifestini Aldo e gli altri li sparpagliarono negli uffici nelle case contadine nei caffè e perfino nelle tasche dei cappotti appesi agli attaccapanni quando Lucia portava l'unità che si stampava a Milano Aldo ne voleva una copia sola perché diceva che era un sistema più sicuro le copie non andavano perse e lui andava in giro per le case a leggerla e spiegarla la guardai anch'io l'unità quando arrivò per la prima volta era un giornale piccolo come un fazzoletto stampato su una carta fina che sembrava un velo di cipolla e diceva tante profezie Mussolini vuole portare l'Italia a un nuovo macello opponiamoci alla guerra imperialista e poi c'erano notizie sulle ingiustizie e le prepotenze contro i contadini e gli operai e sembrava tutto come a campeggine era tutto vero come da noi allora capii meglio di prima che i miei figli erano nel giusto che non erano soli e che si erano uniti con quelli che sapevano vedere chiaro il futuro Aldo si prendeva il suo giornaletto e andava nelle case di sera una volta ci andai anch'io le donne sparecchiavano gli uomini si mettevano attenti e rispettosi i ragazzi tacevano e credevano che Aldo raccontasse le fole Aldo era semplice e sentenzioso diceva di Hitler che invadeva l'Europa e spiegava cos'è l'imperialismo faceva l'esempio degli industriali che ci sono in Italia di quanto rubano al contadino e all'operaio sulla forza lavoro sulla luce elettrica sui concimi chimici sui prezzi dei prodotti agricoli sugli attrezzi industriali e spiegava la concorrenza tra i monopoli italiani ed esteri così i contadini capivano la ragione della guerra come se leggessero sul libro dei conti e poi passava a colorire le notizie un giorno Lucia disse che a Milano avevano chiuso la stamperia e il partito aveva deciso che l'unità si stampasse nel Reggiano noi eravamo già troppo segnati e allora si decise di stamparla a Rio Saliceto in casa Borciani e poi Gelosini la Lucia e i miei erano pieni di cartoccetti con le lettere di piombo e con quelle componevano giochi di pazienza poi la Lucia portò nella nostra casa una macchina in chiostro per stampare i manifestini Aldo li scriveva per i mezzadri gli affittuari gli artigiani con una parola buona per ciascuno e poi Gelindo faceva funzionare la macchina che era divenuto un lavoro di casa come gli altri viene l'ordine a un certo punto di distribuirli anche a Mantova ci vanno Aldo Gelindo e Lucia li mettono nelle buche delle lettere sotto le porte delle case dei giardini pubblici e alle fine si piazzano davanti a un teatro e appena esce la gente li seminano a centinaia poi scappano ma Aldo vuole tornare a vedere la scena della gente che raccoglie e legge così ritornano indietro e si godono lo spettacolo intanto l'unità è richiesta come il pane il lavoro diventa quello di una grande tipografia se ne stampano diecimila copie alla volta però i figli e la Lucia non sono contenti dicono che bisogna stampare anche i libri per dare più cultura così Lucia che sapeva il francese si mette a scrivere in italiano un libro su Stalin e siccome non si trova una macchina da scrivere va alla casa del fascio e con la scusa di copiare le parti per il teatro si mette nell'ufficio che aveva la macchina i fascisti ogni tanto entravano nella stanza per fare i pappagalli con la ragazza perché dicevano che era attrice di teatro e che ci doveva stare Lucia le sbeffeggiava e nemmeno cambiava foglio ma quei sonnacchioni non si accorgevano di niente perché invece del foglio guardavano il petto anche la sorella di Lucia di 12 anni sapeva piazzare bene l'unità la mandarono in bicicletta fino a Bologna con un pacco di giornali i compagni bolognesi per ricompensa le avevano promesso una bambola la bambola infatti le piaceva ma dopo fatto il lavoro quando i compagni gli chiesero che tipo di bambola voleva rispose che intanto era diventata grande e che voleva la tessera del partito i compagni di Bologna dissero che se la meritava e gliela diedero poi la mandarono anche a Parma sempre per l'unità si era fatta sera e non sapeva dove andare a dormire allora si presentò al commissariato della stazione e chiese se la potevano tenere a dormire quando tornò a Campegine la Lucia la sgridò perché era andata al commissariato ma lei rispose naturale un posto più sicuro di quello era piccola ma aveva imparato l'arte di forbicino che taglia le radici della cattiveria così sempre a lavorare insieme Aldo e Lucia si erano affiatati e avevano molta simpatia un giorno parlavano delle anime che si trasformano in altre persone e loro si ritrovarono sempre insieme nella storia e sempre a sinistra nel risorgimento erano Garibaldi e Anita o altrimenti Marx è la moglie o Agrippa è la sua donna il nome non lo ricordo un'altra volta parlavano dell'amore ma mica perché ci fosse relazione tra i due Aldo diceva sei capace di innamorarti e Lucia non ho tempo ma nemmeno nei ritagli di tempo nei ritagli di tempo studio Lucia era accocciuta nella lotta ma sapeva prendere la gente per il suo verso anche con le buffonate a tenore era il figlio mio più selvatico e non parlava mai eppure Lucia lo faceva ridere lui aveva la mente fissa alla produzione del grano per come si poteva fare per averne di più Lucia disse che c'era una via buttare in mare le montagne d'Italia e fare tutta pianura a tenore rideva e non aveva soggezione congelindo invece le discussioni non finivano mai lui diceva che anche in Italia si sarebbe fatto il comunismo ma che in Italia era un'altra cosa perché il sistema agricolo è differente ma anche noi diceva faremo i Colcos li chiameremo cooperative agricole pensa quando ce ne sarà uno da qui fino al Po riempiremo i fossi e rivelleremo la terra così quando è ora di mangiare uno può venire diretto in motocicletta per la Russia i miei figli avevano una venerazione grande perché ci vedevano la giustizia sociale e l'uomo emancipato ci vedevano i sogni fatti dai padri dai primi predicatori reggiani del socialismo il Vangelo è diventato terra ferro e leggi per la contentezza dell'uomo contro i prepotenti e i ladri tutta la mia famiglia ha sempre sentito che gli uomini sono uguali e che devono essere uniti per il progresso ecco noi vedevamo nella Russia una famiglia dove gli uomini sono uguali e uniti nel rispetto e nella democrazia dello Stato e come noi avevamo livellato i terreni e aumentato la produzione con invenzioni nostre di avevano fatto altrettanto e come noi per primi avevano comprato il trattore da pure Stalin aveva voluto i trattori perché capiva i tempi Andrea Costa aveva detto bisogna essere coltivati coi tempi e noi ci abbiamo sempre creduto così siamo diventati comunisti contadini di scienza Fernando aveva passione per le api perché ci vedeva la società giusta organizzata nel lavoro come quella sovietica diceva e Aldo aveva comprato il mappamondo perché Stalin aveva detto studiate la situazione internazionale così noi eravamo anche prima di conoscere giusto sull'unione sovietica e quando abbiamo letto la verità ti siamo accorti che eravamo sulla stessa strada qui a Praticello senza che avessimo cognizione questa fu la scoperta folgorosa se otto contadini di Praticello di fede cristiana si erano messe sulla strada che in Russia ha portato al socialismo è segno che c'è una legge che è matura coi tempi e che tutti hanno il cuore verso quella legge anche se non lo sanno noi contadini queste cose le capiamo bene e allora capimmo pure che il socialismo eravamo anche noi e che anche noi eravamo un po' l'unione sovietica così vi spiegate perché a tanti figli in Emilia si mettono i nomi sovietici perché la classe contadina sente che nell'unione sovietica c'è lei e poi anche i suoi predicatori passati un giorno nel 43 Radio Mosca disse che era arrivato il tempo della liberazione e che i contadini seminassero più grano perché non ci fossero carestie per dare più pane al popolo affamato i miei figli dopo la trasmissione andarono sui campi e si misero a coltivare a grano altri appezzamenti che invece erano stati lasciati per il trifoglio questo per dire come facevano senza esitare e quando Radio Mosca diceva morte ai tedeschi e ai fascisti i miei figli non sentivano storie volevano passare all'azione allora c'erano discussioni con Lucia lei spiegava che la frase di Radio Mosca era giusta ma poi bisognava vedere la situazione italiana e l'organizzazione così poi si convincevano che non era più come la fede cristiana adesso certe cose bisognava lavorarle di più col cervello dopo impararono bene e per noi oggi è facile sapere queste cose ma allora era fatica intanto si preparavano Lucia teneva i collegamenti con i compagni di Leggio e di Parma portava le direttive e un giorno disse che bisognava comprare le rivoltelle allora costavano 60 lire l'una ed era una somma un po' forte Lucia ne parlò col padre e decisero di dare figli di nessuno che era un successo perché parlava di operai di una ferriera che si rivoltavano al padrone allo spettacolo venne un mucchio di gente pure i fascisti col segretario di Campegine in testa Aldo aveva fatto mettere il cabaret alla porta così oltre a pagare il biglietto la gente dava moneta per l'attrice della recita a dolore come fanno le compagnie francesi finito lo spettacolo Aldo è venuto fuori dal telone e ha detto che la signorina sarebbe passata in platea per chi volesse fare omaggio di un'altra moneta per comprare i fiori in onore dell'attrice e poi disse state certi che questi soldi sono ben dati Lucia girò tra le sedie e tutti diedero soldi il segretario del fascio volle dare molto dieci lire forse l'unica spesa giusta della sua vita il teatro sarsi era diventato una base di lotta lì ci si davano gli appuntamenti politici lì si fermavano i compagni che venivano da fuori una volta la Lucia aspettava un compagno di reggio che doveva portare le rivoltelle invece quello incontrò la polizia e per far perdere le tracce arrivò tardi all'appuntamento allora andò a casa della Lucia bussò alla porta e disse con un filo di voce Lucia vuole rivoltelle dietro la porta però non c'era Lucia ma il guardiano che andò a prendere un vecchio spadone da scena inchiodò alla parete il compagno con la spada puntata al collo lo legò al paletto e poi andò a chiamare la Lucia il compagno aveva lasciato fare perché aveva capito l'equivoco poi c'erano tutte queste rivoltelle e non si sapeva come fare per consegnarle allora Lucia si mise a cucire tanti berretti alla russa di quelli col pelo e alti fatti a torta così dentro ci rimaneva spazio e ci cuciva la rivoltella ma a un certo punto i fascisti seppero che il fratello di Lucia era scappato dal confino e vennero a perquisire il teatro invece non lo trovarono ma il padre di Lucia dovette scappare via truccato come era da cardinal Lambertini quando i sarsi stavano affabbricato andò Aldo dalla Lucia mentre parlano arriva il prete con la benedizione pasquale Aldo chiede subito al reverendo padre perché non ha spiegato ai fratelli l'enciclica papale sugli eccessi della guerra il prevosto dice che non l'ha fatto perché tanto i parrocchiani non l'avrebbero capita allora Aldo si inquieta e il prete taglia corto sulla porta dice che il signore mandi la luce su questa casa e Aldo sul pianerottolo no qui la luce l'abbiamo la faccia arrivare invece la luce a tutti quei contadini qui intorno che stanno ancora con l'ume a petrolio intanto l'annona per dare grano e carne ai banditi fascisti tortura i contadini con le spiate le persecuzioni i ricatti tutto all'ammasso grida il fascio e invece il partito diceva niente all'ammasso resistenza alla guerra fascista i miei si mettono subito a convincere i contadini che non sapevano come difendere il capitale dalla requisizione Aldo ha un'idea strategica ai contadini che avevano dato tutto il bestiame all'ammasso e non avevano carne per sfamarsi da carne a volontà ma a prestiti di breve scadenza così quei contadini dovevano salvare qualche capo dalla requisizione per restituire il dato e quando si presentavano operai di reggio e spesso operai delle reggiane dove si riparavano aerei tedeschi e si fabbricavano aeroplani italiani Aldo dava carne e farina purché gli portassero pezzi di motore degli aeroplani così la resistenza alla guerra non era più fatta solo sulla propaganda ma sulla lotta per vivere una volta un operaio delle reggiane portò la testa di un cilindro di uno stucas e Aldo disse che il sistema cominciava a funzionare insieme alla carne e alla farina Aldo dava anche l'unità e la stampa clandestina così i contadini capivano il perché di quel baratto noi non davamo un grammo all'ammasso e cambiavamo i nomi sulle carte annonarie per darle ai combattenti antifascisti clandestini ma intanto Radio Mosca dà notizie che le armate tedesche mollano Stalingrado e si arrendono ai russi in Africa Rommel mangia la polvere queste notizie eccitano i figli che vogliono fare azioni più grandi viene il primo maggio e un impiegato del consorzio agrario amico di Aldo ci regala una macchina da scrivere Lucia ha pane per i suoi denti e ogni notte si stampano manifestini con il viva allarmata rossa e con parole d'ordine contro la guerra poi i miei partono in bicicletta verso Reggio e li appiccicano sui muri della città di giorno entrano nei cinematografi e li fanno piovere in platea dai loggioni ma bisogna fare qualcosa di più e imbestialisca i fascisti allora i miei trovano una sega di acciaio la provano su una sbarra di feto della finestra di cucina l'arnese taglia bene e di notte insieme a Massimo Nando e Agostino vanno nella zona di Sant'Ilario e si mettono a segare un palo dell'alta tensione ci mettono quasi tutta la notte e fanno una fatica da morire ma alla fine il palo precipita con uno scoppio di folgore l'incendio nasce tutto il giorno i ragazzi scappano e Ferdinando dice correndo abbiamo faticato troppo e troppo svelto se continuiamo così il cuore ci scoppia infatti i fascisti vanno in bestia vengono sul posto studiano i passi stampati sulla neve e poi si mettono a misurare le scarpe di tutti i contadini della zona vanno nelle cooperative nelle latterie nelle case e sempre a misurare scarpe come nella favola di Cenerentola poi i contadini di Sant'Ilario mi dissero che ci godevano un mondo a vedere i fascisti inchinati sui loro piedi e molti tenevano i piedi stantii per lasciarli esprimere bene quando i fascisti ci mettevano il viso ma non si trovarono piedi giusti per quelle misure di scarpe perché i miei se ne erano messe apposta delle paia grosse da carnera un'altra beffa ai fascisti Aldo la fece ancora su questioni annonarie a forza di dare farina e carne a tutti quelli che si presentavano venne una spiata da parte del mugnaio del consorzio agrario i fascisti vengono a casa per la perquisizione ma non trovano niente allora per la presaglia arrestano Gelingo e Ferdinando Aldo non era a casa quando torna scrive subito un biglietto al fascio dove si assume tutta la responsabilità del fatto e dimostra che Gelindo e Ferdinando non c'entravano niente i fascisti sonnacchioni rilasciano Nando e Gelindo e si precipitano a casa per arrestare Aldo e sequestrare la farina ma quando arrivano i fascisti Aldo è già scappato era fuggito via con la compagnia Sarsi e faceva finta di essere un attore così spesso poteva anche truccarsi ma alla primavera del 43 quando gli americani sbarcano in Sicilia Aldo era già di nuovo a casa che pensava a lotte più grandi per dare il colpo al fascismo Dal 25 luglio all'arresto Il 25 luglio eravamo sui campi e non avevamo sentito la radio vengono degli amici e ci dicono che il fascismo è caduto che Mussolini è in galera è festa per tutti la notte canti e balli sull'Aia dovevano cadere così sembrava chissà che e sono caduti con uno scherzetto ma è perché mentre loro parlavano di impero e costruivano propaganda il popolo faceva come forbicino e tagliava tagliava finché tutto il castello era posato sull'aria e molti non se ne accorgevano e dicevano che bel castello e invece era tutta finzione e vergogna facciamo subito un gruppo di contadini e andiamo a reggio per la strada tutti si aggiungono e la colonna diventa un popolo ognuno sembrava che aveva vinto lui e questa era la forza ci sentivamo tutti capi di governo arriviamo sotto le carceri di San Tommaso e chiediamo la liberazione dei fratelli antifascisti si aprono le porte ed escono i patiti i sofferenti i testardi antiregime i controcorrente quelli che insomma avevano misurato col cervello dove andava veramente la corrente sotto l'increspata hanno barbe e occhi frizzanti ci abbracciano e sono tuttossa altri invece sono grassi e acquosi andati a male nel buio ma il piacere è breve perché bisogna pensare alla situazione è Aldo che ci ricorda la frase di Badoglio la guerra continua a fianco dei tedeschi i rospi verdi infatti ci guardano da fermi e sembra che aspettino ma è pure Aldo che ci dice di far esplodere la contentezza intanto si vedrà e propone papà offriamo una pasta asciutta a tutto il paese bene dico io almeno la mangia e subito all'organizzazione prendiamo il formaggio dalla latteria in conto del burro che Alcide Cervi si impegna a consegnare gratuitamente per un certo tempo quanto basta la farina l'avevamo in casa altri contadini l'hanno pure data e sembrava che dicesse mangiami ora che il fascismo e la tristezza erano andati a ramengo facciamo vari quintali di pasta asciutta insieme alle altre famiglie le donne si mobilitano nelle case intorno alle caldaie c'è un grande assaggiare la cottura e il bollore suonava come una sinfonia ho sentito tanti discorsi sulla fine del fascismo ma la più bella parlata è stata quella della pasta asciutta in bollore guardavo i miei ragazzi che saltavano e baciavano le putele e dicevo beati loro sono giovani e vivranno in democrazia vedranno lo stato del popolo io sono vecchio e per me questa è l'ultima domenica ma intanto la pasta asciutta è cotta e colmiamo i carri con i paioli per la strada i contadini salutano tanti si accodano al carro è il più bel funerale del fascismo un po' di pasta asciutta si perde per la strada per via delle buche e i ragazzoli se la incollano sotto il naso e sui capelli arriviamo a campeggine tra braccia di popolo e scarichiamo la trattoria una dice mettiamoli tutti in fila per la razione Nando interviene perché se uno passa due volte è segno che ha fame per due e allora pasta asciutta allo sbrago finché va chi in piedi e chi seduto il pranzo ha riempito la piazza grande e tutti fanno onore alla pasta asciutta celebrativa ma si avvicinano i carabinieri e vogliono disperdere l'assembramento Gelindo si fa avanti e dice maresciallo rispondo io di tutta questa gente accomodatevi anche voi e i carabinieri si mettono a mangiare intanto i fascisti erano spariti come scarafaggi nei buchi altri fascistelli buttano le camicie nere uno invece se la vuole tenere dice che ha poche camicie e quella gli fa comodo agostino ci si mette a discutere se proprio ti serve vedi a che punto ti ha ridotto il fascismo se invece è una scusa ti entra lo stesso perché anche le tarme vogliono la loro festa il fascista rimase di gesso e butta la camicia ma qualcuno vuole dare una lezione ai fascisti andiamo a stanarli dai buchi dicono e punzecchiamoli un po' sulla pancia ma Aldo li blocca e dice perché volete infierire dobbiamo convincerli dell'idea sbagliata e domani saranno tutti con noi ma il governo Badoglio non la pensava lo stesso la guerra continuava e prima di tutto contro il popolo i tedeschi non dovevano capire secondo Badoglio che l'italia cambiava alleati ma i tedeschi avevano capito dove si andava e aspettavano per vedere se c'era da vendere cara la pelle oppure no quindi un buon governo avrebbe dovuto armare il popolo e cacciare via i tedeschi che in quei giorni avevano un po' di paura e si ricordavano del risorgimento invece proprio a reggio il governo Badoglio si fece capire nemico del popolo più che in tutte le altre zone d'Italia alle reggiane io avevo un nipote operaio e il 25 luglio ci fu contentezza grande si fecero comizi improvvisati manifestazioni brindisi e allegria si andò alla cerca di tutti i ritratti di Mussolini dei fasci delle scritte e lì a spaccare e a spicconare ma gli operai volevano uscire gli operai più di altri sonnacchioni avevano capito che il 25 luglio non bastava e che la guerra doveva finire con la cacciata dei tedeschi se il governo di Badoglio non si appoggiava al popolo finiva come il fascismo e i tedeschi avrebbero governato loro usciamo in piazza gridavano gli operai manifestiamo per la pace i cancelli della fabbrica erano chiusi davanti c'erano i soldati in stato di guerra evviva 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 gridava un operaio che era salito sulla torre di un palo telegrafico sventolando un ritratto del re evviva la pace rispondevano gli operai e altri evviva il re arriva una colonna dalle fonderie pace vogliamo la pace il piazzale grande della fabbrica era pieno e azzurro di operai in tuta con cartelli e bandiere tricolori e rosse andiamo in piazza a gridare la pace urla un operaio gli rispondono le bandiere e gli operai che vanno verso il cancello premono alle sbarre guardano i soldati e l'ufficiale nervoso che prega non uscite non uscite fratelli soldati grida un operaio ubbidite al vostro re abbasso la guerra fascista viva l'italia democratica viva la pace e un altro alzando il tricolore soldati unitevi al popolo per cacciare i tedeschi viva l'italia libera gli operai gridavano e sporgevano le braccia fra i cancelli i soldati cercavano di star fermi a piedarm ma si muovevano nervosi ed ufficiale parlava non uscite carogne o vi spara in faccia gli operai fanno una fiumana e vogliono che si rimangi la parola ma quelli delle prime file tengono ancora l'urto e vogliono convincere i soldati non sparate sugli operai vostri fratelli siate anche voi figli di mamma non sparate unitevi a noi per la pace non ce l'abbiamo con voi voltate i fucili contro i tedeschi aiutateci a liberare l'italia un'operaia viene avanti aggomitate fra le prime file e grida soldati fatelo per le vostre madri per le vostre spose basta con la guerra i soldati sentono la commozione e guardano l'ufficiale si parlano tra loro non stanno più in riga e allora gli operai aprono i cancelli e corrono verso di loro fermi urla l'ufficiale tirando fuori la pistola se fate un altro passo spariamo gli operai si fermano di blocco davanti al plotone c'è silenzio all'ufficiale trema la pistola in mano i soldati come tirassero su chili di piombo imbrazzano i fucili per il puntattarm ma tremono anche loro aspettano che crolli il maledetto ufficiale gli operai allora riprendono a camminare piano aspettano il momento giusto per spiccare il salto e abbracciare i soldati impedendogli di sparare all'ufficiale nemmeno ci badano lui è uno solo ha una pistola sola e poi è troppo carogna io sparo fa l'ufficiale nevrastenico io sparo noi spariamo attenti i soldati chi aveva il fucile verso il cielo chi lo teneva a bracciar e gli operai come una barriera continuano ad avanzare piano in silenzio arretrate di tre passi urla l'ufficiale ai soldati e gli operai si fanno più spinti in avanti è già un successo fuoco un rumore che spacca l'aria fumo e rosso gli operai si buttano a terra scappano dietro gli alberi mio nipote rimane acquattato con i compagni suoi fermi come lui sul selzato e guarda senza alzare la testa i corpi vicini quello che gli volta le spalle sta sul fianco ha sulla tempia un buco di sangue un altro amico suo un operaio giovane sta col viso verso il cielo e chiama fievole mamma la donna addossata a un albero vestita di nero perdeva sangue dalla pancia e piangeva come una bambina altre due donne in portineria urlavano con le mani sulla faccia mio nipote alza un po' il capo e vede altri corpi sanguinanti il sangue scivola a terra viene giù delle chiazze e fa tanti rivoli gli altri operai dietro gli alberi gridano vigliacchi assassini e tirano sassi sul plotone mentre l'ufficiale si china sui corpi per vedere erano nove i morti nove operai che volevano la pace era il 28 luglio 1943 la gente ancora festeggiava ma quei morti fecero capire che gli italiani avrebbero dovuto conquistare la pace col sangue il crollo del fascismo non era ancora la fine di quei prepotenti e ladri che avevano voluto la guerra il massacro scosse tutto il popolo reggiano quando Aldo lo seppe dal nipote disse gli operai ci hanno insegnato la via giusta bisogna chiedere la pace anche se ci si lascia la pelle le reggiane diventarono un centro di lotta contro la guerra se ne accorsero poi i tedeschi quando facevano riparare i loro stucas che non si riparavano mai o quando sparivano casse di proiettili o pezzi di mitraglia che finivano in montagna per i partigiani così era logico che si arrivasse all'otto settembre andammo a reggio e la gente era divisa perché chi aveva la faccia oscura di persona che sapeva quanto stava per succedere chi gridava all'armistizio come fine delle sofferenze e gridava alla pace ma i rospi verdi che il 25 luglio ci guardavano e aspettavano si mettono in movimento e la notte del 9 le divisioni corazzate delle SS che avevano stanza a parco Terracchini occupano la città alla mattina i tedeschi fanatici sfilano per le vie del centro cantando ogni tanto qualche rospo si ferma e attacca ai muri ritratti di Mussolini le autorità militari italiane non si fecero sentire il prefetto non c'era le truppe avevano armamenti da ridere di fronte alle corazze tedesche eppure i soldati italiani e molti ufficiali difesero l'onore un bersagliere rimase ammazzato col suo fuciletto che aveva sparato contro un carro armato alla caserma del terzo altiglieri le truppe fanno fuoco sui tedeschi ma poi questi riescono ad entrare e intimare la resa si sono morti e feriti così pure si resiste alla caserma dei bersaglieri dove si mette in opera un cannoncino anticarro che serviva per l'istruzione e viene colpito un carro armato tedesco la popolazione faceva come le sabbie mobili e inghiottiva i soldati per salvarli dai tedeschi venivano fatti entrare per le finestre dai balconcini si calavano le corde carri di fieno portavano soldati nascosti donne si mettevano a braccetto con uomini mai visti così che al distretto di reggio su 200 soldati i nazisti ne trovarono solo tre lo stesso si faceva per i prigionieri angloamericani scappati anche la nostra casa diventò una stazione di smistamento ma noi facevamo in modo diverso non soltanto volevamo che i soldati ci dessero le armi e in cambio gli davamo i vestiti ma quelli che si presentavano senza armi gli dicevamo di andarne a trovare una e portarla così dopo qualche giorno i fienidi sono diventati arsenali e abbiamo fin anche una mitragliatrice la casa è piena di soldati e le donne la sera preparano il rancio intanto i ragazzi sono in giro per cercare abiti civili perché quelli che abbiamo non bastano alla notte c'è il travestimento i soldati vestiti da contadini se ne partono a gruppi con biciclette che ci siamo fatti dare in prestito intanto i tedeschi stanno sistemando l'occupazione e girano poco in provincia i miei figli ne approfittano e vanno a reggio si presentano da certi compagni che hanno un garage e si fanno dare due automobili con quelli vanno in lungo e largo per la provincia alla cerca di armi la lucia sarsi li raggiunge e dice che un gruppo di austriaci è disertato i miei si precipitano sul posto e si fanno dare le divise della wehrmacht in cambio di abiti contadini poi vengono a casa e si vestono da tedeschi non sembrano più i figli miei buoni con quella divisa figuravano rospi anche loro partono con le macchine e vanno a Ciano dove c'era una caserma di carabinieri scende Aldo e dice ai carabinieri di guardia automobile caputta dare aiuto camerati i carabinieri si mettono a guardare la macchina ma gli altri scendono alla svelta dall'automobile e gli tolgono le armi poi entrano nella caserma e disarmano tutto il presidio intanto in tutto il reggiano i contadini e gli operai cominciano a muoversi e il partito da direttive contro l'invasore tedesco cominciano gli atti di sabotaggio e i contadini assaltano gli uffici dell'ammasso per non lasciare il grano ai tedeschi infatti il dottor guerriero che fungeva da prefetto e firmava gli ordini dei tedeschi fece un manifesto dove ci diceva che già c'erano stati atti di sabotaggio e che si preparavano rappresaglie a reggio le donne si facevano sotto le finestre delle caserme per portare viveri ai soldati prigionieri dei tedeschi ma le SS si avventavano sulle donne con fruste e calci e le donne dicevano la loro collera agli uomini che si organizzavano infatti mi ricordo e la cosa mi mise tanta contentezza che i tedeschi e i fascisti avevano proibito di portare il tabarro e avevano dato ordine di far tagliare tutte le siepi in provincia erano nati i gap che sparavano da sotto i tabarri e da dietro le siepi alla testa di queste nuove organizzazioni c'era Vittorio Saltini detto Toti e altri dirigenti che poi furono eroi ma l'attività più pratica allora era quella della raccolta delle armi e l'assistenza ai prigionieri alleati scappati dai campi di concentramento i miei figli si erano già dati da fare per le armi bisognava agire per i prigionieri a casa nostra intanto era venuto un certo Dante Castellucci che aveva conosciuto in Calabria il fratello della Lucia Sarsi quando era al confino e che era stato vari anni in Francia ragazzo fantasioso intelligente pitturava e scriveva insieme a lui e alla Lucia i miei figli organizzano un piano per far scappare i prigionieri dal campo di fossoli di notte vanno ai lati del campo tagliano i fili spinati e Castellucci chiama i prigionieri in francese come fa l'uccellatore con gli uccelli i prigionieri scappano e trovano sulla strada donne in bicicletta che li portano a casa mia così se prima la casa sembrava una caserma adesso somigliava alla società delle nazioni ci sono diverse nazionalità inglesi americani russi neozelandesi e parlano ognuno la propria lingua i prigionieri trovano pronti i tinelli per il bagno si fanno la barba gli diamo vestiti nuovi e poi tutti intorno alla tavola della camera da pranzo a dirle adesso queste cose sembrano sembrano inventate eppure non c'era il senso del pericolo per le strade di campagna agli angoli dei casolari si trova sempre qualche donna qualche vecchietta che appena vedeva qualcuno un po' strano mezzo soldato e mezzo civile o tipico barbe lunghe da partigiani si avvicinava e chiedeva avete bisogno di qualcosa e sapevano che c'era la pena di morte ma il popolo reggiano è fatto così e noi non siamo mica un'eccezione a cena coi prigionieri sempre con Castellucci che traduceva chiediamo che vogliono fare se restare o raggiungere le truppe alleate ma quasi tutti vogliono partire salvo i russi che chiedono di combattere anche qui Aldo ha un'idea difficile era andare in Toscana dove c'erano le truppe alleate allora Aldo dice ai prigionieri di seguire sempre i pali ad alta tensione che non c'è da sbagliarsi i prigionieri ci salutano scherzano coi bambini lasciano ricordi personali e se ne vanno noi gli abbiamo assicurato tre giorni di viveri per ciascuno oltre all'equipaggiamento contro il freddo e l'acqua restano i russi e Aldo pensa di combinare insieme un'azione decidono di fare un attentato al segretario federale fascista di Reggio e di notte si appostano lungo la strada provinciale dove hanno messo uno sbarramento ma la macchina del federale gira l'ostacolo e sconfina nei campi poi più in là ritorna sulla strada il piano è fallito nella montagna invece l'azione è ancora scarsa Aldo Lucia e vari prigionieri partono per cervarezza con munizioni e viveri uscirono di notte per non farsi vedere e dovevano raggiungere il secchia che porta fino a ventasso avanti andava Aldo con lo zaino sulle spalle e poi Dante Castellucci e gli altri dovevano attraversare chilometri di campagna per arrivare a secchia e camminavano vicino ai filari delle viti Aldo stava attento a non farsi vedere da nessuno perché aveva paura di rappresaglie su di noi ma c'era da salire un argine tutto battuto dalla luna e mentre Aldo sale in cima sbuca una bicicletta con uno che lo vede chiaro in faccia lui si butta sotto l'argine ma ormai l'avevano visto gli rimane sempre quell'impressione e tutto il periodo che era in montagna pensava alla rappresaglia perché non aveva notizia poi un altro incontro passano due autocolonne naziste che portano via i prigionieri italiani stanno stretti in piedi come bestiame e Aldo maledice che se avevano le armi li avrebbero liberati arrivano su secchia il greto è secco e acciotolato in mezzo scorre un filo d'acqua che sembrava un mercurio al lume della luna camminano in mezzo al greto e i passi suonano nella notte silenziosa Aldo dice fate piano che ci sentono sulla strada camminano tutta la notte e sono pieni di stanchezza ormai vanno in due gruppi e non hanno forza nemmeno di parlare a un certo punto i tre russi si mettono a gridare sono capitati in un pantano che gli succhia le gambe Aldo fa combinare una catena di braccia e danno strattoni finché liberano i tre tutti si mettono a ridere e la cosa serve per ridargli allegria arrivano alla prima collina e trovano una capanna di paglia e canne forse di un pastore gli si mettono a dormire come signori si svegliano verso mezzogiorno Aldo guarda verso la porta e ha una brutta sorpresa c'è seduto davanti un fascista che volta le spalle siamo in trappola pensa Aldo e studia che si può architettare per tirarlo fuori ma quello si volta e dice non pensate male ho disertato la guardia repubblicana Aldo ancora non si fida ma il disertore non ha armi ha gettato il moschetto dietro una siepe e chiede di stare con i partigiani gli domandano dove ha gettato il moschetto lui li porta una siepe e ritrova il moschetto ma manca l'otturatore l'ho gettato nel fiume dice il disertore allora Aldo entra nell'acqua dove quello ha indicato e trova anche l'otturatore così decidono di prenderlo con loro si chiama quarto Camurri è un bravo ragazzo si rimettono in marcia per il ventasso adesso si sentono più forti perché hanno un moschetto a mezza strada arrivano a un castagneto e si mettono seduti sotto gli alberi a esaminare la situazione il primo problema è quello delle armi il secondo è quello di farsi amica la gente del posto se no sono senza riferimento nel farsi amica la gente sono facilitati dall'arrivo di un uomo strano un maestro elementare davano un riposo nella montagna quando vedono arrivare un tipo con calzoni sportivi giacca a vento capelli bianchi e una rete acchiappa farfalla in mano che va ad acchiappare farfalle quello lì dice Aldo adesso che non ci sono ma lascialo avvicinare dice a quarto che si preoccupava quello arriva e Aldo gli dice non ci sono farfalle di questi tempi lo so che non ci sono risponde il tipo ma la rete è una scusa sono il maestro del paese e ho saputo di voi che non andate mica a caccia di farfalle neppure voi il tipo è furbo e vale la pena di metterci sì d'accordo rimangono intesi che il maestro tornerà in paese a fare da collegamento e che quando ci sarà qualche novità sui movimenti del nemico dovrà lasciare una lettera nello spaccio del castagno davanti al lessicatoio il servizio funziona subito perché la sera dopo trovano una lettera che dice in paese c'è molta apprensione perché si è sparsa la notizia che i fascisti domani verranno a portare via dall'ammasso del grano la farina di frumento ed anche quella dolce di castagne per consegnarla ai padroni nazisti sarà la fame per il paese bisogna a tutti i costi vietare la ruberia firmato farfalla così una mattina dopo si appostano lungo la strada che porta al paese e quando arrivano due autocarri tirano le bombe a mano e i fascisti si danno a correre per la vallata fanno un bottino di armi ma le macchine vanno a fuoco Aldo si mise poi in contatto con i compagni che già lavoravano in montagna si era incontrato a Porta Castello con Spartaco il suo segno di riconoscimento doveva essere un fazzoletto alla Pompadour i due si danno appuntamento a Busana lì si trovano al caffè c'è anche Otello Sarsi detto Otello il Mantovano prendono una strada solitaria e fanno le presentazioni poi arrivano a Cervarezza e vanno verso i boschi di castagni Otello il Mantovano fa due fischi che era il segno di riconoscimento per gli altri partigiani entrano in una casa disabitata piena di fieno e lì c'erano cinque russi due inglesi un sudafricano e due reggiani gli offrono il mangiare che avevano preparato due ragazze di Cervarezza e intanto si mettono a discutere i due inglesi chiedono di tornare al loro esercito tutti gli altri stranieri invece vogliono combattere insieme ai partigiani bisogna decidere sul da farsi e allora Spartaco spiega un piano si tratta di fare un colpo alla caserma dei carabinieri di Villa Minozzo dove ci sono le armi requisite alla popolazione tutti d'accordo si sarebbero rivisti a Sologno per i preparativi dell'attacco intanto Spartaco e Otello dovevano andare a Villa Minozzo per studiare bene il piano si sarebbero ricongiunti con gli altri a Sologno invece a quell'appuntamento non c'è nessuno Aldo spiegò poi a Spartaco i motivi ma intanto i tedeschi avevano portato via le armi dalla caserma ma stava da tentare con quella di Toano questi movimenti avevano fatto conoscere alla popolazione che a Sologno c'erano i partigiani così la voce va di bocca in bocca finché lo sa anche Don Pasquino Borghi che allora reggeva la chiesa di Tapignola il prete viene subito a Sologno per aiutare i partigiani e chiede un abboccamento ci vanno Aldo Spartaco e il Sudafricano Don Pasquino era un prete giovane di idee moderne e patriota quando conosce che c'è il Sudafricano è contento di parlare inglese che lì in montagna non gli capitava mai perché lui era stato missionario nel Sudan i prete offrì ospitalità e i tre ringraziarono Don Pasquino all'alba tutta la squadra meno i due inglesi che se ne erano andati per passare le linee si rimette in cammino verso Toano con due muli ma si andava troppo piano e a un certo punto prendono il camion dello straccivendolo che era un mancino infatti dopo pochi chilometri le gomme baciano terra per fortuna passa un camioncino che veniva dalla Spezia ci salgono su e arrivano a Toano Spartaco lascia il gruppo perché doveva andare a Minozzo a preparare un rifugio per la notte e un posto sicuro per nascondere il bottino delle armi intanto la squadra aveva assaltato la caserma ma trovano solo cinque moschetti quattro pistole cinque paia di scarpe e una radio il bottino è magro ma si vede che i fucili da caccia della popolazione avevano fatto gola dopo il colpo la squadra torna a Villa Minozzo qualche ora prima dell'appuntamento così non trova pronto l'unica cosa era andare da Don Pasquino Borghi si fanno dire dov'è Tapignola e si incamminano viene la notte e c'è da passare il monte Prampa la nebbia non fa vedere a un metro così prendono la strada e fino alla mattina girano sempre nel monte come in un labirinto Aldo Spartaco Ezio e il sudafricano scendono per avere informazioni ma si incontrano coi fascisti che vengono su con i camion loro si nascondono e i fascisti non se ne accorgono perquisiscono la casa dove erano stati ospitati i partigiani rubano ogni cosa e si mettono a bere vino finché diventano ubriachi se ne vanno schiamazzando e sparacchiando all'impazzata dopo lunga marcia finalmente arrivano a Tapignola dove Don Pasquino Borghi li accoglie felice e mette in movimento le donne e fa preparare al mezzadro le stanze di sopra così i partigiani hanno cibi caldi e dei buoni letti uno dei due reggiani aveva male alle gambe e non si leggeva più in piedi allora Don Pasquino va nel suo studiolo prende una pomata speciale e si mette in ginocchio a massaggiare le gambe del partigiano ogni anno in chiesa assisto al lavaggio dei piedi ma nessuno più si commuove quando seppi invece di questo fatto mi commossi perché pensai che c'è ancora fraternità e cristianesimo se un prete ristoro umilmente un partigiano ma il prevosto di Villa Minozzo era fascista e non poteva sopportare che Don Pasquino aiutasse i partigiani Don Pasquino gli rispondeva un ministro di Dio ha il dovere di aiutare quelli perseguitati che sono fratelli in Cristo ed è dovere di ogni sacerdote assecondare i patrioti che difendono l'Italia prima di morire Don Pasquino fu malmenato a Villa Minozzo e una donna gli sputò in faccia e i fascisti si giocarono la vita sua Don Pasquino aveva molto affetto per Aldo diceva che sapeva discutere bene di filosofia anche se le idee erano diverse anzi lui ci provava passione proprio perché le idee erano diverse siccome sulle cose politiche e patriottiche andavano d'accordo la discussione si sfogava sulle questioni di teologia Aldo diceva facendo il Cristo divino voi lo diminuite perché quello che faceva secondo voi era per divinità io invece lo penso uomo tutto faccio discendere da lui perciò io considerandolo uomo lo esalto più di voi Don Pasquino rispondeva che Cristo era sì divino ma si era fatto anche uomo e che quindi c'erano tutte e due le cose ma Aldo non mollava e diceva e allora tutti i partigiani che muoiono oggi molti dopo una vita di lotta e di predicazione e che prima di morire vengono torturati offesi eppure accettano la morte per amore degli uomini sono divini? facevano queste discussioni e non sapevano che sarebbero morti tutti e due negli stessi modi infatti Don Pasquino Borghi fu fucilato un mese dopo la morte dei miei figli dopo la sosta a Tapignola la squadra riprese il cammino voleva addirittura presidiare tutto il paese ma veniva l'inverno difettavano i collegamenti così dal comitato di liberazione di reggio venne l'ordine di ritirarsi dalla montagna Aldo e gli altri obbediscono a malincuore ma altro non c'era da fare se non esporsi alla cattura così tutti ritornarono a casa mia una mattina viene una staffetta a dirsi che un avviatore americano è sceso col paracadute in campagna verso rio Saliceto Aldo e gli altri partono subito con la staffetta e trovano l'americano stava in mezzo al paracadute bianco come in un letto matrimoniale e perdeva sangue da una gamba quando vede i nostri pensa che siano fascisti e mostra la ferita che lo fa gridare ma i miei dicono partigiani e allora l'americano ride contento lo prendono a braccia avvoltano il paracadute e con la macchina tornano a casa l'americano è un tipo a suo modo bacia Genoveffa come sua mamma quando vede il letto comodo e pulito che lo aspetta riesce a gridacchiare urrà e ci si sdraia i figli gli mettono la gamba sulla spalliera e Ferdinando che aveva organizzato un'infermeria pulisce la ferita e la fascia con la tela migliore quella che filava la madre poi al pranzo gli portano pollo lesso per rimetterlo su che è magro e lui mangia la carne e scuta la pelle ah dice con la pelle fra le dita e fa un ghignaccio con la bocca indica lo stomaco non gli piace la pelle al putino e io mi arrabbio perché il pollo era come oro allora e nessuno di noi ne mangiava eppure pollo ne ebbe poi sempre e Genoveffa ne faceva comprare quando non potevamo ammazzare i nostri ma la pelle non ha imparato mai a mangiarla così la toglievamo e la mangiavamo noi il ragazzo rifaceva sangue e si cambiava giorno per giorno nel viso così si alzò presto voleva cominciare a imparare l'italiano veniva giù in cucina con le donne chiedeva come si chiama questo e quello così metteva insieme le parole e faceva discorsi buffi aveva capito che eravamo comunisti ma faceva finta di niente chissà prima cosa pensava lui che fossero i comunisti poi venne da noi anche un russo pure lui cerca di imparare qualche parola di italiano e l'americano qualche parola di russo e il russo qualche parola di americano il russo lavorava molto nei campi e quando passava qualcuno nella strada si nascondeva dietro le siepi poi vennero neozelandesi e canadesi erano tutti gli alleati una sera dopo cena ci mettemmo a cantare canzoni ognuno del proprio paese ed improvviso venne fuori il canto dell'internazionale la sapevano tutti e la cantavano nella loro lingua ma quella sera c'era una lingua sola e un cuore solo l'internazionale Aldo non l'ho mai visto con le lacrime agli occhi ma quella sera le aveva casa cervi era diventata una cellula dell'internazionale e quando quella sera sentimmo Radio Mosca e l'inno sovietico e l'internazionale volevamo che ci sentissero anche loro che sapessero di casa cervi che noi combattevamo gli stessi nemici loro dopo cantato si crea un entusiasmo generale Anatolio il russo se la prende coi fascisti che avevano promesso la ricompensa di 5 chili di sale a chi denunciava i partigiani e si alza in piedi e dice a Genoveffa se volete salare l'acqua della minestra potete tagliarmi un orecchio e buttarlo nella pentola tutti ridono e poi ognuno racconta storie del proprio paese e della propria terra Castellucci parla della Calabria dei sassi dei pastori e dice di un frutto che noi non conoscevamo il figo d'India una specie di prugna diceva con le spine senza nocciolo sembrava un indovinello come poteva essere un frutto con di come poteva essere l'unico di mittestria doveva essere lubita cioè sia diventa sa fabbrica di alimentari. Celindo e Anteno le macellavano spesso e mettevano la carne in salamoia per tenerla conservata e pronta per i prigionieri che ripartivano. Ferdinando aveva messo sotto pressione le api e cavava chili di miele. Le donne facevano il pane anche tre volte al giorno e gli stranieri si dividevano in due commissioni. Una dove c'erano sudafricani e inglesi impastava e cuoceva. Un'altra dove c'erano i russi faceva il burro. Non succedeva mica allora come succede qualche volta all'ONU. Allora ci si teneva alla concordia ma il burro non serviva solo per casa e ai prigionieri. Bisognava mandarlo in montagna ai partigiani perché ai partigiani gli manca sempre il burro. Bisognava che ci potessimo tenere tutta la produzione del latte per qualche settimana e allora avremmo fatto montagne di burro. Ai miei figli sono sempre venite le idee nei momenti difficili e con quelle ci siamo sempre salvati. Salvo alla fine si capisce che hanno pagato per tutte le idee avute nella vita. Così questa volta a Gelindo viene l'idea di truccare le vacche come se avessero l'afta episodica. Prende un ferro da stiro rovente e fa sul muso degli animali certi segni che sono proprio una copia delle afta. Così viene l'ispettore sanitario e nemmeno ci sta a pensare. Anzi dice brutta infezione stavolta e rilascia subito il certificato che nella nostra stalla è scoppiata l'epidemia. 40 giorni di isolamento per le vacche, 40 giorni di burro in libertà. Grande lavoro per i russi. Ma stavolta si unì pure la commissione per il pane con gli inglesi e sudafricani. Di notte poi ogni tanto facevano le azioni. Si vestirono un'altra volta da tedeschi. Aldo insieme ai due russi e con l'automobile andarono in un paese affollato di fascisti della guardia repubblicana. Le osterie erano piene di quei sonnacchioni. Aldo con gli altri erano in quella più centrale. Appena sulla porta gridarono. Essere fascisti qui? Alzata in piedi generale, sbattuta di tacchi, saluti. Qualche sedia cade per terra nella fretta. Certi non si reggono sull'attenti e fanno come i pendoli. Uno grida. Per i camerati tedeschi. Heil Hitler! E tutti fanno Heil Hitler! con il brazzo a mezzasta. Aldo e gli altri li lasciano sfogare, sempre da fermi e con facce di marmo. Poi scendono davanti a loro e con i mitra puntati li disarmano tutti. I fascisti diventano tristi e non sanno capire che hanno fatto di male ai camerati tedeschi. Ma nessuno dice una parola. Tutti a braccia alzate. Eppure erano una trentina contro tre. Tanto che Viktor, il russo, mentre loro escono con il bottino di armi, gli crida in faccia. Noi essere partigiani! Ma nemmeno quello schiarimento li incoraggiò, perché i tre poterono andarsene via tranquilli, in macchina, senza essere inseguiti. Ormai, però, i partigiani erano diventati troppi a casa mia. Allora erano trenta. Bene, Lucia Sarsi, ai primi di novembre, e dice che il comitato di liberazione vuole sfollati i prigionieri, che il rischio è troppo grande. L'ultimo scaglione deve partire il giorno 25. Ma Aldo dice che ormai il rischio c'è stato, e tanto conviene attentare che la maggior parte dei prigionieri resti in Rezzano, anche se non a casa nostra, ma a combattere insieme ai partigiani. In mezzo a tutto quel pericolo, Aldo era contento di aver rivisto Lucia. Uscirono insieme in bicicletta. Era l'ultima volta che si vedevano. Aldo ha un presentimento e dice Lucia, insegnami una canzone nostra, che se mi fucilano, voglio cantarla prima di morire. Che idee, lugubri, fa Lucia. Io la canzone te la insegno, ma per vivere. Vorrei tanto vivere e tanto amare. Ma viene il tempo che a ciascuno sarà chiesto il massimo. Comunque insegnami la canzone. Lucia scherzò un po' su quelle parole profetiche di Aldo, ma poi si fece seria e cantò. Non siamo più la comune di Parigi, che tu borghese schiacciasti nel sangue in più gruppi isolati e divisi, ma la gran classe dei lavoratori. Aldo rimase commosso e disse. È vero, Lucia, prima tutti i proletari morivano senza sapere dove andava il loro sacrificio. Oggi lo sappiamo, ma oggi il sangue ancora chiede sangue, finché verrà un giorno che questo destino sarà sciolto. Lucia era diventata pensierosa. Certo, noi siamo quelli che preparano quel giorno, ma non lo vedremo. Chissà, rispose Aldo, se mi chiedessero in quale tempo vorrei rinascere, seglierai sempre questo. Così si salutarono e si fecero gli auguri, ma nell'aria sentivano già la sciagura. Da casa i prigionieri partivano a gruppi. C'erano rimasti due russi, un inglese, un sudafricano, un australiano, Castellucci e quarto Camurri. Ormai i fascisti erano imbestialiti e volevano saldare il conto con noi, che non avevamo mai ceduto di un dito. Tutti lo sapevano e capivano che al fascismo si poteva pure tenere testa. La guerra gli andava male, e allora almeno vinsela sui cervi. Così si arriva al fatale 25 novembre. Era notte, pioveva a dirotto, e noi dormivamo tutti. A un certo punto ci svegliano i lamenti del bestiame e colpi di fuoco. —Che è? dico io, e scendo dal letto. Nel corridoio c'è Aldo, e gli altri aprono le porte. Ci mettiamo a guardare dalle finestre. sparano dai campi intorno alla casa. Altro non vediamo. Poi viene una voce forte dalla campagna. —Cervi! Arrendetevi! Diciamo parola, e prendiamo subito le armi. Le donne trascinano nelle stanze le cassette delle munizioni. Chenoveffa stava vicino alla porta della camera da letto. Muta. La vedo come se fosse adesso, pallida e con gli occhi accesi. Poi si sbuote e si mette a calmare i bambini. Intanto noi abbiamo infilato le pistole tra gli scudi. Aldo ha un mitra e apre il fuoco. Anche gli stranieri sparano con noi. Ti rispondono altri colpi, e il fuoco dura qualche minuto. Poi noi cominciamo a scarsezzare nei tiri. Finché ci guardiamo tutti e ci parliamo nelle stanze. Le munizioni sono finite. Aldo guarda dalla finestra verso il fienile. Vede un bagliore e dice «Brucia, non c'è più niente da fare». Io dico «Non mi arrendo a quei cani. Andiamo già tutti quanti, è meglio morti che vivi». Aldo mi ferma e dice «No, papà, che ci sono le donne e i bambini. Meglio arrendersi». Così scendiamo le scale, piano, per l'ultima volta. Le donne si aggrappano alle spalle degli uomini. Qualcuno piange. Agostino prende in braccio il suo bambino e lo bacia. Nell'ingresso, prima di uscire dall'aia, Aldo si riunisce e ci dice «Sentitemi bene». Quando ci interrogeranno, solo io e Gelindo ci prenderemo la responsabilità. Gli altri non sanno niente, è chiaro? Poi apriamo la porta e usciamo nell'aia. Io corro verso la stalla, ma un fascista mi acchiappa e gli urlo «Igliacchi! Almeno le bestie lasciatele scampare». Entrarono nell'aia due autocarri. Poi ho sempre saputo che erano venuti in cinquanta uomini per prendersi. La casa bruciava e ora si vedevano i fascisti armati fino ai denti. Ci prendono villanamente. Ma noi diciamo che saliamo da soli sul furgone. E poi gli ultimi addii. I figli abbracciano le spose e dicono «State tranquille, tutto si metterà bene. Vedrete, non è la prima volta che ci arrestano». Irnes, che ha in braccio il bambino più piccolo, bacia Agostino. E lui le dice «Quando torno deve saper camminare, eh?». Antenno le bacia i suoi tre figli e si raccomanda «Non lasciate mai sola la mamma e non fate arrabbiare la nonna. Papà torna presto». Gelindo abbraccia i suoi due bambini più volte. Lui sapeva già che non sarebbe tornato. Come forse lo sapeva Aldo, che però salutò i suoi calmo e tranquillo. Poi a Genoveffa tutti i figli le stavano intorno e la baciano chi sul viso, chi sui capelli, chi le bacia le mani e dicono «Arrivederci mamma, vedrete che torneremo presto. State tranquilla». La madre li abbracciava tutti come poteva e si li stringeva al petto e li carezzava sul capo e piangeva e diceva «Meglio morire». Ma i fascisti non danno tregua. Si spingono sul furgone e quando prendono me, Genoveffa dice «Anche tu». «Anch'io, certo», gli rispondo forte mentre mi allontanano. Così sai che ci sto io coi figli tuoi. Genoveffa scoppia in singhiozzi, che pensava mi risparmiassero. Prima che chiudano gli sportelli del furgone gridiamo ancora «State tranquille, torneremo presto». Ma i loro visi si vedono e non si vedono, secondo i lampi delle fiamme. Ci portano via, mentre le donne e i bambini restano soli nella casa che brucia. Continua a piovere, così forse l'incendio finirà presto. Ma poi ho saputo che sì, l'incendio è finito presto, ma che i fascisti, appena andati via noi, si sono messi a rubare e a saccheggiare tutto, mobili, macchine, copertoni, e poi bruciarono i libri, li strapparono e se li misero sotto i piedi. Meglio l'incendio allora, che almeno ci sarebbero rimaste le tracce. Ma a un certo punto il furgone non va più avanti, per via del fango. I fascisti bestemmiano e attaccano due buoi, non so a chi li hanno presi. Poi si arriva al bivio. Fanno scendere gli stranieri e li mettono su un'altra macchina per portarli a Parma. Camurri sta con noi, mentre Castellucci si mette a parlare francese e dice che lui è un soldato di De Gaulle e i fascistici credono, così lo mettono insieme agli stranieri. Non so quale sorte sia poi toccata ai prigionieri, ma fino ad oggi non ho ricevuto mai lettere. Solo l'inglese, per ringraziamento, ci ha mandato un pacco di caramelle. Queste mura cadranno. Quando entriamo nel carcere dei servi, veniamo messi in un camerone con altri detenuti, e i miei ragazzi li chiamano per l'interrogatorio. Nessuno parla, e allora i fascisti gli fanno la tortura del giro della scala. Dovevano scendere giù per una scala, tra due file di militi che gli davano calci, schiaffi, colpi coi calci dei moschetti, e i ragazzi venivano sbattacchiati dall'uno all'altro carnefice, vesti rovinati. Aldo ritornò nello stanzone con la fronte rotta e rossa di sangue. Io disse a un fascista, non ti vergogni di questo. Ma nessuno dei figli faceva lamenti. Allora venne un signore della milizia, e gli fa l'interrogatorio. Lui credeva di essere più bravo ad ingannare un branco di contadini. Aldo e Gelindo si prendono ogni responsabilità, e gli altri dicono che non sapevano niente. Finalmente viene la notte. Curiamo i ragazzi feriti, e io spero che si addormentino, così sentono meno male. Ma a mezzanotte i fascisti tornano a chiamare. I cervi fuori! E altro giro della scala, altri calci e pugni e schiaffi sulle ferite gonfie aperte. Poi uno per uno li chiudono in una stanza, interrogano, e altre botte. Qualcuno dei miei sviene, e allora i fascisti provano un'ultima carta. Li riuniscono insieme e gli dicono che se entrano nella guardia repubblicana fascista, li fanno salva la vita. Uno risponde per tutti. Crederemmo di sporcarci. E i fascisti rinunciano agli interrogatori. Era il 25 novembre, una giornata fumanosa. Ci avevano messo dentro una cella che aveva mezzo metro di segatura. In otto, e appena ci si muoveva, si alzavano nuvole di polvere pizzicante e legnosa. Così io facevo fatica a respirare. Delindo bussa alla porta. Chiama il secondino e gli dice «Papà non può respirare». Allora mi fanno uscire nel cortile. È pieno di fumana, ma il cuore si libera dalla soffocazione. La prima cosa che scopro è un portone. È accostato e l'apro. Dietro c'è un orto stecchito di gelo. Ma mi sembra già di essere a casa. E guardo le pianticelle. Sono coltivazioni fasciste. Perché ci manca l'amore per l'agricoltura. Mi fanno pena. E così, divagando, vedo un muro di faccia. E in cima è spigoloso di cocci. I miei figli dicevano sempre «Se non fosse per papà, saremmo già scappati». E allora io li spingevo a scappare. Che mi lasciassero lì. Io ero vecchio e me la sarei cavata. Ma se mi tirassero su per quel muro, io mi scaravolterei di là e addio ai servi. Così, fantasticando, rientro dal portone e passeggio sotto i muri. E penso a organizzare e a imbambolare le guardie. Do calci ai sassi e non me ne accorgo. Così sento qualcosa di ferro che suona. Raccolgo il pezzo. È un manico di cucchiaio con qualche punta di dente. Lo metto in tasca e corro dai figli. Fernando e Aldo se lo rigirano e provano a grattugiare la parete. Il manico sgraffigna bene e allora dagli a raschiare tutta la notte, finché la mattina viene via un mattone grosso. Girindo ci infila la testa e si passa. Così la fuga è pronta e rimettiamo a posto il mattone per la notte appresso. Quando viene il secondino facciamo come niente, ma gli occhi ridono e il cuore è pronto. «Alle undici ci vengono a prendere guardie i fascisti. Ci portano alle carceri giudiziarie di Santo Maso. Usciamo dal carcere per andare in un altro carcere. Ci mettono al secondo piano e il capoguardia Morini viene a assaggiare le sbarre che suonano falso. Perché siete sconsolati?» mi dice. «Siamo otto maschi e a casa abbiamo lasciato donne e bambini con 80.000 lire di debito. Che state a pensare ai debiti?» dicono orgogliosi i figli. «I debiti sono debiti e si possono pagare, ma i soldi che mi hanno rubato non li vedo più». «Che soldi?» fa il capoguardia. «Coi gradi non parlo», dico io. «Parla pure, le spiate non le faccio». «Coi gradi non parlo, io parlo con gli uomini». Allora il capoguardia si leva la giacca e io gli racconto che il maresciallo Sidoli, davanti al tenente Cagliari delle Brigate Nere, sul ponte di casa mia, mi ha rubato 32.000 lire della vendita dei maiali. Erano 10.000 lire di biglietti da 100, 5.000 di biglietti da 500 e 10.000 di biglietti da 50. Facevano 31.916 lire. «Ma questo è un furto da codice penale», dice il capoguardia. «Il fascismo è tutto un furto da codice penale. E ci hanno spogliato tutta la casa, e hanno rubato fin anche la macchina Singer da cucire della nuora, e se la portavano giù per le scale, per caricarla sul camioncino». Allora io ho gridato «Riportatela su! È il regalo di nozze del padre della nuora». E i fascisti si sono vergognati e hanno rifatto le scale con la macchina. Hanno rubato persino i fazzoletti da naso dal cassetto del Comò. «Dei soldi lo dovete dire al procuratore della Repubblica, quando viene ad interrogarvi», dice il capoguardia. E quando venne il procuratore glielo dissi. Lui telefonò alla brigata nera e chiamò davanti a noi il tenente Cagliari. Ma lui nega e dice che sono pazzo. «Avete ragione, sono pazzo, perché voi siete forti, e fate e disfate». Allora il procuratore dice al Cagliari «Tenente, il Cervi ha più giudizio di voi, non è vero?». Il tenente abbassa la testa e non fa parola. Oltre al capoguardia, anche il secondino era diventato amico nostro. Pedrini era più che secondino, capofamiglia, perché aveva tante bocche da sfamare a casa e pensava più al burro e alla farina che al reggimento. Era un uomo sentenzioso e pieno di umanità. Aldo e gli altri impiantarono subito gli affari per la fuga. Già sapevano dov'era il telefono per staccare i fili e dove le chiavi delle celle. avrebbero compensato il Pedrini coi beni in natura per sfamare la famiglia. Così arrivarono alle strette e Aldo scrisse un biglietto alle nostre donne che portò a casa il Pedrini. E dove c'era scritto «Fidatevi di quest'uomo?». Massimo, il nipote, disse al Pedrini che stava preparando un piano per la fuga e che ci avrebbe avvertiti. Così aspettavamo e venne il Natale. Alla vigilia entrò Don Stefano per la confessione. «Noi non abbiamo peccati da pentirsi», ho detto io e i figli. «E allora perché siete qui dentro?» «Perché abbiamo fatto le opere di misericordia», rispondo io. «E quali sono queste opere di misericordia, fai prete? Se non lo sarei che è canonico, chi lo deve sapere? Abbiamo dato asilo ai perseguitati, da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, abbiamo conservato i figli alle madri, gli uomini alle spose. Abbiamo predicato la giustizia contro i prepotenti fascisti e ladri, contro i ricchi carnivori di fatica e sangue. Ma a parte la politica, tutto il resto sono cose dette dal Vangelo. Non sono reato. Sono reato e chi le fa ci muore. Gesù le ha dette e le ha fatte, così è diventato crocifisso. Noi pure le abbiamo fatte e apposta siamo qui dentro. E poi per la politica. Se quello che volete dire è quello che intendo io, non abbiamo paura. Siamo comunisti, ma io vi dico che oggi comunista, socialista e cristiano sono una persona sola. Sono l'uomo secondo giustizia». Don Stefano si imperma lì e andò via alla svelta. Dopo un certo silenzio, Ovidio si mise a cantare le litanie e intercalava dicendo che se lo fucilavano le funzioni se le sarebbe cantate lui. Agostino pensava al figlio Mario, che ancora non staccava i passi, e diceva «adesso tanto tempo che potrei insegnarli a camminare». Ma il canto e il pensiero intristivano, se non che avevamo l'idea della fuga e allora non c'era più posto per la tristezza. Seppi dopo di tutte le manovre per il piano. Castellucci era riuscito a scappare dal carcere di Parma e dopo tanto girare era tornato a casa nostra. È ferito e le donne lo rimettono in gamba. Ma lui pensa sempre al piano per liberarci, anche noi. Insieme al cognato Massimo riunisce cinque uomini, Otello, Sarsi, un prigioniero russo e altri tre partigiani. Si vogliono procurare cinque divise di carabinieri per presentarsi a San Tommaso, con la scusa di portare un prigioniero. Poi si dovevano assaltare le guardie e con la complicità di qualcuno liberare noi e altri detenuti politici. Intanto noi, a Praticello, avevamo mandato Pedrini. Quando ci dice del piano, Aldo gli scrive un biglietto per casa. «Fate presto!» Di ritorno Pedrini ci dice che sarà per la notte di Natale, che ci sono meno guardie per la festività. Intanto Dante cerca in tutti i modi le divise da carabiniere, ma ne trova tre e non bastano. E Massimo, il nipote, si ammala. Così la fuga è rimandata a Capodanno, altra festività propizia. Intanto si poteva approfittare del tempo per accordarsi sul piano di fuga. Dante pensa di mandare una sposa a colloquio, ma alla fine decidono di incaricare la sorella di Irmes, Maria, che si sarebbe commossa di meno e avrebbe fatto meglio la parte. Tutto era pronto, ma successe come dopo il mattone dei servi. I fascisti aprono la porta della nostra cella e gridono «Famiglia Cervi, fuori!» Io esco in testa, ma mi dico tu che vuoi, sei vecchio, torna indietro. Sono il capofamiglia e voglio stare insieme ai miei figli. Ma intanto viene il controordine, tutti di nuovo in cella, ancora non è pronto. Ci dicono «Tornate a dormire, sarà per domattina». All'alba nuova chiamata, ed escono i miei sette figli e camurri. Chiedo dove li portano. «A Parma, per il processo», mi rispondono. e riportano via alla svelta. Faccio in tempo appena a salutarli. Siccome sono rimasto solo, mi mettono nella cella numero tre, insieme all'avvocato Manlio Mariani, Ubaldo Morini e Mario Ferrari, Elio Levoni, contrario al regime, e Bruno Ergellini, che aveva nascosto armi dopo l'otto settembre. Io mi feci subito amico l'avvocato Mariani, perché volevo parlare del processo di Parma. Gli dicevo «Quale che possa essere la sorte dei miei figli, noi abbiamo praticato la legge dell'umanità, alloggiare i pellegrini, sfamare gli affamati, vestire gli ignudi di qualsiasi razza e nazione. I miei figli sono dunque innocenti davanti a Dio e agli uomini, e se sono stati uccisi, il loro sangue ricadrà sugli uccisori». E l'avvocato mi parlava come si fa coi nonni. «State tranquillo, vedrete che tutto si metterà a posto». Ma lui ancora non conosceva i cervi. Allora io gli dissi «Io spero che la cosa sia come dice lei, ma se i miei figli sono stati ammazzati, le giuro che i loro dieci figli maschi, che stanno a casa, cresceranno con gli stessi principi e gli stessi ideali che dovranno trionfare. In caso contrario è meglio morire». Intanto era venuto uno nuovo a patire nella cella numero tre, lo scrittore Arvigo Benedetti. Diceva che si era compromesso dopo il 25 luglio e che l'8 settembre era scappato sulla nostra montagna, dove insieme al parroco aveva assistito qualche prigioniero alleato. Così anche lui aspettava il processo a Parma. Quando entrò ci alzammo tutti per sapere, e lui diceva della guerra in Russia e in Italia. «A primavera», disse io, e lui mi guardò. «Cervi», feci la presentazione. «Benedetti», mi rispose. «Cervi», disse il giovane Molini, che aveva la barba ed era un po' pazzo. Poi si piegò le orecchie e fece uno strillaccio di animale. Altre volte cantava «Suona la tromba intrepido». Benedetti si era seduto sul letto e guardava curioso le orgellini che mi pazzava le cicche, e io le mettevo dentro il bicchiere d'alluminio per i carcerati delle altre celle che non avevano soldi da fumare. Io mi muovevo perché l'ulcera mi mangiava lo stomaco, e loro parlavano del medico del carcere che mi aveva lasciato con una mano davanti e una di dietro, senza riguardo speciale. «Amici», dissi, «quel dottore non è stato gentile con me, ma è il suo mestiere, è abituato con i ladri e gli assassini. Oggi hai galantuomini che tocca star dentro così». Tutti tacevano, e io non avevo sonno. «Ho sette figli», dissi, «e non ho nessuna notizia di loro». L'altra mattina, mentre dormivamo insieme, vennero a chiamarci. Dissero, «la famiglia Cervi è il completo, col capofamiglia in testa». Ma a me, hanno detto, «sei vecchio, tornatene pure a dormire». Ho risposto, «non sono forse il capofamiglia?». Avevo voglia di ricordare quando eravamo insieme, coi figli, negli ultimi giorni. Arrivarono all'alba i fascisti sul fondo, circondarono la casa e la stalla. Dormivamo, e appena arrivati bruciarono il fienile. Mio figlio Aldo disse, «brucia, non c'è più niente da fare». L'avvocato Morini ricordò la distribuzione di pasta asciutta il 26 luglio. «Tutto il paese», disse io, «ed eravamo contenti, e dicevo ai miei figli, «nessuna vendetta, ora che c'è libertà». Ma non credessero che i miei figli erano signorini. Alla caserma dei servi i banditi neri hanno chiesto, «volete il perdono?». «Mettetevi nella guardia repubblicana». I miei figli risposero, «crederemmo di sporcarci. Noi servi siamo fatti così, amiamo la libertà. I miei figli sono contadini forti, non hanno paura delle tribolazioni, e se li hanno date ai tedeschi li porteranno in Polonia, e lavoreranno senza morire. Sono certo che torneranno». Fu allora che dissi quella frase che poi si avverò. «Perché io vi dico che presto questi muri cadranno, e i tormentatori del popolo prenderanno il posto dei tormentati, e noi torneremo alle nostre case, a ricostruire l'Italia. Io sono vecchio, ma i miei figli giovani, tutti nel fiore degli anni». Ero accorto che avevo alzato la voce, e abbassai il tono. Certe volte mi domandavo, potrebbero essere anche morti, ma non credo che siano morti, il sangue lo direbbe. Il capoguardia Pedrini aveva sentito il mio discorso, e venne a dire la buonanotte. «Buonanotte», disse. Il riposo continua. E il giovane passo gridò «Tu pass, tu pass, tu pass!» Ecco il moto di San Tommaso. I giorni passavano, stenti. E chi giocava con le carte dipinte apposta, chi cercava notizie da fuori. Il fronte russo avanza, il fronte russo crolla. La consolazione durava un minuto, e una notizia era contro l'altra. Io stavo quasi sempre sul letto, perché l'ulcera mi scottava. Poi, durante l'ora del cortile, mi mettevo il tabarro e facevo qualche passo. Morini il pazzo si era stufato, e voleva passare alla guardia repubblicana, e io lo convincevo che non ci doveva andare. Da casa arrivavano sempre pacchi con tortellini e dolci. Quel giorno, il 7 gennaio 1944, le nostre donne ci avevano mandato il miele. Ve lo ricordo bene perché era una mattina grande di luce, e alla sera si avverò la mia profezia. Alle 9 si sentono gli aeroplani. Pergellini dice dal rumore che sono alleati. Succede un lampo folgoroso, e Morini si aggrappa alla finestra e dice «O cielo!». Lo scaravoltiamo giù e i muri tremono per gli schianti, ci attrezziamo alla svelta e usciamo nel corridoio interno. I carcerati comuni gridavano alle guardie «Delinquenti, apriteci!» e urlavamo come animali tra le fiamme. Vi aprono le porte e ci mischiamo tutti di corsa nel corridoio. Qualcuno scivolava e si faceva male, perché le invetriate erano cadute e si correva sui vetri accatastati per terra. Eravamo nel cortile, e sul cielo c'era un colore d'arancio per i bengala che scendevano piano piano come fiocchi. Altro terremoto, e le mura del carcer crollano in mezzo a un'ira di Dio di schianto e di polvere. Qualcuno grida aiuto, spuntano braccia dalle macerie. Così salviamo qualche guardia. Io mi infilo dentro il buco che serviva per l'accettazione dei pacchi, e salto nella strada. Altri nascosti dal polvere passano attraverso il crollo. Tutti correvano verso Santa Croce, invece io prendo la via Emilia. C'erano due carabinieri, e potevano riconoscermi dalle pantofole. Si vede che avevano altro da pensare in quel momento. Arrivo sul ponte del Crostolo, e mi volto verso Reggio. Vedo un ciuffo di fiamme e di fumo. Era una famiglia che conoscevo. E ho chiamato «Garavelli! Garavelli!» Ho nessuna risposta, e allora ho scavalcato il cancello. Quando mi vedono si meravigliano molto, e mi dicono di restare. «No, datemi una bicicletta, vado a casa, che se i fascisti mi trovano qui, li bruciano la casa e tutto. Quando esco mi dicono. Ma come sei entrato? Ho scavalcato il cancello. E come hai fatto? Ma ho scavalcato!» Correvo in bicicletta e lungo il Crostolo. Un quadrazzo di gente era sotto gli alberi, per via del bombardamento. Arrivo a casa alle ventitré, tutti dormivano. Entro, chiamo e per incoscienza guardo l'attaccapanni. I figli non erano tornati. Venne giù Genoveffa e le nuore. Mi baciano, mi abbracciano forte. Mi chiedono come sto, mi portano in cucina e mi fanno bere caldo. Dei figli nessuno parlava, e allora chiedo io. «Ci sa niente dei figli?» La moglie risponde come distratta. «Se non lo sai tu, noi non sappiamo niente. Allora io capisco che bisogna tirarla su di morale e dico. Li hanno portati a Parma per il processo, me lo ha detto Pedrini, e poi anche l'avvocato Mariani. I figli sono bravi per i processi, vedrai che prima o poi ce li vedremo a casa. Ma lei non prendeva passione a discutere, e le nuore tacevano. Si davano da fare intorno a me, per ristorarmi. E se non li avessero portati a Parma? Se fosse una bugia?» Diceva la moglie che provava a sentire il mio stato d'animo. «E io insistevo a incoraggiarla. E se non li hanno portati a Parma li avranno deportati in Polonia a lavorare. Figurati, con quell'allenamento che hanno!» Mia moglie smise di parlare su questo, perché capì che io non sapevo. Andammo a letto, e mi disse di dormire tranquillo, e mi diede un bacio. Per un mese e mezzo non mi disse una parola sui figli. Aspettava sempre che mi rimettessi dall'ulcere e dalla prigione, e così ogni sera andava a letto con il segreto nel cuore, e in più con me, che non capivo e parlavo di loro come se fossero vivi. Dicevo, quando torna Fernando, bisogna dirgli che gli alveari vanno rinnovati, e Aldo lo mandò a cercare un capo di bestiame svizzero, e Gelingo deve trovare il concentrato che è finito. La madre taceva mentre io la torturavo. Un giorno provò a farmi capire di più. Mi disse, i nostri figli non torneranno, non vedi quanti morti per le strade che non si riconoscono. Tra loro ci saranno anche i nostri figli. E io cociuto, tu sempre a far male profezie, sei stata sempre così, tu. Allora la moglie ruppe la pazienza, e disse, i nostri figli non torneranno più. Sono stati fucilati tutti e sette. Io rimasi fermo e zitto, poi chiesi senza chiedere. Non torneranno più? E la moglie no, non torneranno più. Sono morti tutti e sette. Le nuore mi si avvicinarono, e io pianzi i figli miei. Poi, dopo il pianto, dissi. Dopo un raccolto ne viene un altro. Andiamo avanti. La morte dei figli e della madre. Dopo che avevo saputo, mi venne un grande rimorso. Non avevo capito niente, niente. Ma li avevo salutati con la mano l'ultima volta, speranzoso, che andavano al processo. E glielo avrebbero fatta, i fascisti, loro così in gamba e pieni di stratagemmi. E invece andavano a morire. Loro sapevano, ma hanno voluto lasciarmi l'illusione. E mi hanno salutato sorridendo. Con quel sorriso mi davano l'ultimo addio. Figli, perché avete avuto pietà della vecchiezza mia? Perché non mi avete detto che andavate alla fucilazione. Avrei urlato ai fascisti, come ho fatto sempre, e forse non sareste morti. Adesso che mi hanno detto tutto, e i vostri compagni di carcere mi hanno ripetuto le frasi vostre, il rimorso mio è grande. Quando la guardia fascista ci disse, andate a dormire, sarà per domattina. Tu, gelingo, rispondesti, cosa volete che andiamo a dormire? È tanto che dormiamo e andiamo verso il sonno eterno. Ma quella frase io non la sentì, che altrimenti avrei capito. E quando tu, Ettore, il più piccolo e il più caro, lasciassi il tuo maglione bianco a code luppi, io ti chiesi perché lo lasci. A Parma farà freddo, e tu mi sorridesti senza rispondermi. Ma ora ho saputo che a code luppi avevi detto, perché farlo bucare? È nuovo, e tienilo per tuo figlio, almeno servirà a qualcosa. Perché avete fatto così, figli miei? È colpa mia, se ho sempre creduto in voi, che nessuno l'avrebbe vinta su di voi. Non è sempre stato così, quando eravamo insieme e tornavate vincitori dei processi, dei carceri, dalle lotte coi fascisti, dai colpi partigiani. Ma alla morte, alla morte non ci avevo mai pensato. Ben meritato è il rimorso per me, superbioso, che vi credevo intoccabili dalla morte. E se anche in carcere, lo dicevo, che potevate essere morti, il sangue non si credeva, e si ribellava. Ma i padri e le madri sono fatti così, adesso lo capisco. Pensano che loro moriranno, che anche il mondo morirà, ma che i loro figli non li lasceranno mai, nemmeno dopo la morte, e che staranno sempre a scherzare coi loro bambini, che hanno cresciuto per tanti anni. E la morte è un'estranea. Che sa la morte dei nostri sacrifici, dei vaci che voi mi avete dati fino a grandi, delle veglie che ho fatto io sui vostri letti. Sette figli, che prendono tutta una vita. E tu, Gelindo, che eri sempre pronto alla risposta, ora non mi conosci più, e non mi rispondi. E tu, Ettore, che nell'erba alta, dicevi, non ci sono più. Ora l'erba alta ti ha coperto tutto, e non ci siete più. E tu, Aldo, tu così forte e più astuto della vita, tu ti sei fatto vincere dalla morte. Maledetta la pietà, e maledetto chi dal cielo mi ha chiuso le orecchie e velati gli occhi, perché io non capissi e restassi vivo al vostro posto. Niente di voi sappiamo più, negli ultimi momenti, né una frase, né uno sguardo, né un pensiero. Eravate tutti e sette insieme, anche davanti alla morte. E so che vi siete abbracciati, vi siete baciati, e Gelindo prima del fuoco ha urlato, voi ci uccidete, ma noi non morremo mai. È vero, figli miei, vostro padre aveva ragione, il sangue diceva giusto, voi non potete morire. E questa è la forza che mi fa andare avanti, che non mi fa piegare dal sentimento, altrimenti sarei venuta da voi presto, con la mamma vostra. Così io soffrivo e pensavo, il giorno e la notte, ma, come mia moglie aveva nascosto a me il suo cuore per un mese e mezzo, io lo nascosi a lei per incoraggiarla. Poi la certezza della loro causa, i partigiani, le donne, i compagni, gli operai, i fiori, le lapidi, gli affetti, che da tutte le parti abbracciano i miei figli, mi hanno dato una forza enorme, che mi fa resistere alla tragedia. Questa forza è diventata chiara negli ultimi anni, ma non l'ho perduta mai, nemmeno nel momento che la madre mi disse della fucilazione. Dopo mi hanno raccontato come si erano svolti i fatti che avevano portato all'uccisione. Un cappista il 27 dicembre fece giustizia del segretario fascista di Bagnolo in piano. I gerarconi della provincia si riunirono funebremente la notte stessa, davanti al morto, e gridarono vendetta. Uno contro diesi, gridavano a quelli che avevano imparato dai tedeschi. Il federale legge un elenco di nomi, ma qualcuno suggerisce l'idea. Fuciliamo i sette fratelli Cervi. Buona l'idea. Il camerata è intelligente, e si decide così. Infatti li portarono al poligono di tiro, e sull'arena si fa avanti Don Stefano, quello che avevamo conosciuto in carcere, e li chiede se vogliono confessarsi. I miei gli rispondono che non hanno peccati da pentirsi, e i fascisti sono contenti, perché hanno una grande fretta. Un capo Plotone chiede ai militi chi vuole avere l'onore di sparare, e un milite di nome Vulcano dice chiedo l'onore, e così altri, finché bastano. Don Stefano, in seguito, ha detto che i miei sono morti da cinici, e invece lui ha sopravvissuto da cinico, perché il suo posto da cristiano era con gli innocenti, e non con i carnefici. Ormai quello che hai fatto è fatto. Le nuore mi hanno poi raccontato come hanno saputo della morte. La Ines e mia figlia Diomira vennero il 28 in città, perché la madre diceva, io non posso girare, andate voi, ma ditemi sempre la verità. In piazza, a Reggio, sentirono gli strilloni che gridavano il giornale, ma il comunicato non faceva i nomi, e allora chiesero un colloquio, che, se non glielo accordavano, era segno che i fucilati erano loro. Andarono a Santo Maso, e quando chiesero di portare dolci e di voler parlare con i familiari, sempre le lasciavano indietro, e davano retta alle altre donne. Allora Irnes si mise a protestare perché la lasciavano indietro. Alla fine il fascista disse, voi aspettate un momento. Entrò in ufficio, poi ritornò e disse che la roba per i servi non la poteva prendere. Irnes chiese perché, e il fascista sempre con la solita storia che li avevano portati per il processo a Parma. Tornò la mattina dopo, Irnes, insieme a Massimo, e andò in questura a sentire. Gli risposero che lo avrebbe saputo alla fine della guerra, e che ora non facesse domande. Manuara chiese allora che gli accordassero un colloquio con me. Ma i fascisti dissero che non facesse troppe domande, e la cacciarono via. Massimo invece aveva saputo la verità dal capoguardia Pedrini. I figli erano sepolti a villa auspizio, e durante il bombardamento le bare si erano scoperchiate. A casa Genoveffa aveva lasciato la direzione dei lavori alla nuora più anziana, Margherita, e lei si era tenuta solo i lavori di cortile. Una mattina aprì lo sportello di una gabbia dei conigli, ma a richiuderla non si fermava, e allora disse Come si vede che non ci sono più i figli miei? Le cose nessuno le comoda più. Allora il nipote piccolo, che era lì con lei, il figlio di Agostino, si fa su e dice Ci sono io, nonna! Alle parole del nipote scoppiò a piangere col bambino tra le braccia, e disse E' vero, piccolo, ci siete voi, perdonate alla nonna che vi ha scordati. E da quel giorno fu tutta per gli undici nipoti. Ma gli occhi suoi non erano più di questa terra, e le mani avevano imparato meglio a fare da sole, perché la mente era lontano, coi suoi figli. Io la spuotevo ogni tanto, e cercavo di incoraggiarla, ma era come quando tornai dal carcere, che mi guardava con pena. Così lei se ne andava, e non leggeva più, e non s'affacciava nemmeno più in chiesa, che diceva come Gesù sulla croce Dio, Dio, perché mi hai abbandonato? E i fascisti continuavano l'odio. Un cugino proprietario diceva che ben ci stava, e un giorno che non c'ero lo disse a Genoveffa Ora le nuore si rimariteranno, e porteranno via i bambini, e tu resterai sola. Ma lei gli urlava sulla voce, e diceva che i figli suoi erano morti per una causa giusta, E questo bastava. Ma non erano solo le frasi a vomitarci i fascisti. Ci avevano bruciato la casa quando ci arrestarono, poi ci ammazzarono i figli. Ma non gli bastava, e vennero a bruciarci ancora il 10 ottobre del 44. A quella data eravamo solo due vecchi, quattro donne e undici bambini. Ma per i fascisti, anche vecchi, donne e bambini erano cose da bruciare, perché erano comunisti. Così vennero ladramente di notte, e diedero fuoco al fienile, poi scaparono via. Usciamo dalla casa, e ci mettiamo a gettare acqua, con i bambini e tutti. Genoveffa, quando vide le fiamme, risentì quella notte, quegli spari, quei figli con le mani alzate, nel cortile, e gli addii, e il furgone che parte. Così cadde di colpo, e il cuore non resse. Le era venuto l'infarto. Rimase a letto un mese, e il pensiero suo era per i nipoti. Voleva almeno cucire qualche cosa, ma doveva stare ferma nel letto, senza nemmeno voltarsi sul fianco. Morì il 14 novembre del 1944, senza avere conoscenza. Solo durante l'agonia, aveva detto, torno a stare coi miei figli. E i figli suoi erano già nel cuore di tanti partigiani, che si andavano organizzando, e nascevano i battaglioni cervi, e l'odio per il tedesco si ingrandiva nelle campagne e nelle città. Finché le mura del carcere crollarono, e si aprì sull'Italia il cielo della liberazione. Conclusione Ecco, ho raccontato la storia della famiglia e mia, come il cuore ha saputo. L'ho raccontata e mi è costato fatica e dolore. Ma avevo uno scopo. Dirle queste cose a tutti i padri di famiglia italiani, che vivono distenti e di sopportazioni, che invecchiano di lavoro per fare i figli grandi e contenti dei padri. Dirle prima di tutto ai vecchi, come me, che sono stati traditi tutta la vita dai padroni, dai governi e dalle guerre, e adesso si ritrovano come a vent'anni senza lavoro e soldi, senza un sigaro da fumare, senza pensione o con cinque mila lire al mese, e con tanta voglia di morire per non avere più bisogno di mangiare e chiedere. Ai vecchi braccianti dell'Italia affamata di terra e di lavoro, che per tutta la vita sono stati zappe e badili che si prendono in affitto, solo qualche mese all'anno, e per il resto devono inventare mestieri, quando li inventano, per resistere fino all'altra stagione. Ai fratelli contadini poveri del mezzogiorno, che col sangue e la lotta hanno fatto più grande la bandiera rossa. Ai mezzadri, compagni miei, e i padroni gli rubano metà del raccolto, e loro danno all'Italia solo ignoranza e tradimento. Agli impiegati degli uffici, e sanno come va male lo Stato, e chi sperperà i soldi, mentre loro devono fare lavori in più, e stanno sempre con la paura che nascono figli. Agli intellettuali, che non possono creare l'utile, perché oggi la cultura che frutta è quella per l'inganno e la guerra. E i maestri non hanno lavoro, e gli analfabeti non hanno maestri. Agli operai licenziati d'Italia, che potrebbero salvare lo Stato con l'intelligenza e l'onestà, e non riescono a salvare i figli dalla fame e dalle malattie. A voi tutti dico, rifate come ho fatto io la storia della vostra famiglia, e vedrete che dicono tutte la stessa cosa. Perché la natura grida forte, che cosa bisogna fare. La società pure, ma gli uomini ancora tutti non capiscono, e si fanno il male con le mani loro. Se tutte le storie delle famiglie italiane viventi di lavoro dicono la stessa cosa, pure qui c'è una legge. E se non l'ascoltate, tutto va a ramengo. E la legge dice che questo sistema non dà più frutto, che fa marcire l'uomo e ingrassa il prepotente e il ladro. Per questo siamo venuti sulla terra, io l'ho detto al presidente, bisogna cambiare, è il sistema che non va. E io riunirai la Camera, poi metterei insieme le buone proposte di tutte le parti, come si è fatto per la Costituzione, e chiamerei tutti gli italiani a stare uniti, per salvare lo Stato e la nazione. Dicono, sarebbe bello, ma la politica estera, c'è l'America che dopo ci abbandona. Io non so parlare di politica estera, Aldo avrebbe potuto spiegare più chiaro, ma so una cosa che vale più dei discorsi. A casa mia ho raccolto più di ottanta prigionieri, per lo più inglesi e americani, venivano stracciati e con i pidocchi, certi in mutandine, e ritornavano via puliti, vestiti, ingrassati. Le nostre donne lavoravano fino al luna di notte per preparargli i vestiti e le camice, compravano perfino i polli per dare la carne fine ai feriti e agli ammalati, quando c'erano rimaste solo le galline da uova. Sette figli hanno pagato per queste opere di bene, e la madre se n'è andata con loro per crepacuore. E qual è stata la riconoscenza? Che fino ad oggi gli americani sono stati dalla parte di quelli che ci hanno bruciato cinque volte la casa e hanno distrutto la famiglia. Sono stati loro a dirgli bravi, ai persecutori dei comunisti, del partito dei miei figli. Alla larga da questi amici, ti fanno morire, e alla memoria dei morti, e a quelli che restano, dicono crepa. E non vi illudete, voi che state al governo, di avere più riconoscenza, se volete continuare a dividere gli italiani. Si servono di voi, e poi vi buttano via, perché non stanno mai ai patti, e sono amici solo del loro capitale. Hanno fatto così con l'Italia dopo il 15-18, uguale dopo questa guerra, che ci rubano sempre col sangue. Dicono che gli italiani sono furbi, e sanno scegliere sempre il più forte. Io dico che sono minchioni, e continuano a stare col prepotente e il ladro, che adesso ci accarezza, perché vuole gli aeroporti per metterci le bombe atomiche. Io dico agli italiani, non fate fibruciare la casa come hanno fatto a me. Salvate i vostri figli, le vostre spose, scacciate quelli che si presentano con le caramelle, e portano morte e disgrazia nelle famiglie. Quando mi dissero della morte dei figli, risposi, dopo un raccolto ne viene un altro. Ma il raccolto non viene da sé. Bisogna coltivare e faticare, perché non vada male. Avevo cresciuto sette figli, adesso bisognava tirar su undici nipoti. Dovevano prendere ognuno il posto dei padri, e bisognava insegnare tutto da capo. Quando tornai dal carcere, due mesi dopo, nacque il terzo figlio di Gelindo, e gli mettemmo il nome del padre. Questo dunque era il più piccolo, e la più grande aveva dieci anni, Maria, figlie di Antenole e di Margherita. Erano piccoli, perciò, ma io gli insegnai lo stesso. Li portai una mattina sul fondo, e a quelli che potevano capire, gli feci vedere come si falsa, ma prima di tutto come si fa per non tagliarsi le dita, quando si affila la lama. Poi, a Giovanni, anche lui figlio di Gelindo, insegnai la cura delle api, la passione di Ferdinando. Gli feci mettere la maschera dello zio, e lui si divertiva, ci voleva fare la scherma e il palombaro. Poi come si munge, a Maria, a Giovanni e Alcide, che erano due gemelli, e avevano nove anni, e come si governano le bestie. A tutti i più grandicelli, sull'aia, insegnai ad andare in bicicletta, così potevano fare qualche commissione. C'era poi da ricostruire le parti bruciate della casa, e anche lì mi feci aiutare a passarmi i mattoni, e a portare la carriola e la cofana in due. I bambini crescevano allegri, e molto avevano ripreso del carattere dei loro padri. Alcide veniva su spiritoso e buffone, sempre con qualche scherzo in mente. Ennio, figlio di Antenore, calmo e di poche parole come il padre, e tutti con la solita mania di leggere e scartabellare. Ci sono passata tutta la biblioteca della scuola, e anche loro prendono libri alla popolare di campegine, libri di storia, di agricoltura, romanzi a sfondo sociale. E Maria ha fatto fino alla seconda di ragioneria. Le altre due bambine, Antonietta e Luciana, fanno le professionali e smetteranno alla terza, perché a casa c'è bisogno di aiuto. Così adesso Maria ha ventun anni, Giovanni Alcide venti, Luigi diciannove, Ennio diciassette, Antonietta quindici, Luciana quattordici, Antonio tredici, Mario e Adelmo dodici, e Gelindo, il più piccolo, undici. Ma può darsi che qualcuno ne venga ancora, dal nipote Massimo e da Irmes, che ancora sono giovani. Comunque poi gli insegnano loro, perché io adesso devo insegnarmi la vecchiaia, per come si fa a non dare fastidio a nessuno. Sì, perché io ho fatto gli ottant'anni, e c'è da aspettarsi il biglietto da un giorno all'altro, per quanto mi sento di rimandarlo indietro ancora per qualche anno. Ottant'anni, e il cielo non si è ancora tutto schiarito. Torna il militare per i nipoti, e Maria, la figlia di Antenore, va sempre a fare conferenze contro la guerra e il fascismo, come faceva Aldo. Ma adesso sono milioni di persone che ci ascoltano, che sanno dei sette figli miei, e si avvicina il giorno, come diceva Aldo, che il destino di morire sarà sciolto, e l'umanità penserà solo a vivere, a migliorare i campi, a fabbricare trattori, a studiare il mondo, come volevano i figli miei. Perché non ci fermeranno più? C'è bisogno di prova? Guardate la mia famiglia. Avevo sette figli, e ora ho undici nipoti. Avevamo quattro mucche, e adesso sono cinquantaquattro capi di bestiame, con la produzione del grano che è salita cinque volte quella del trentacinque. Eravamo mezzadri, pieni di debiti, e adesso abbiamo ancora debiti da scontare, per trent'anni, ma il fondo è dei nipoti e delle nuore. Non faranno più San Martino. E quando c'è da ascoltare il padrone per fare qualche miglioria, si riunisce il consiglio di famiglia, e quello che decida è ben fatto. In più, abbiamo dato sette vite alla patria. Se c'è bisogno di dare ancora la vita, se c'è bisogno di dare ancora la vita, i servi sono pronti, e qualcuno pure sopravviverà, e rimetterà tutto in piedi, meglio di prima. Ecco perché non ci fermeranno più. Ma cercate di capirmi. Io vorrei averli vivi, i figli, perché stessero ancora vicino a me. E ogni padre di famiglia vuole la salvezza dei figli suoi. Per questa salvezza non c'è che un mezzo. Che gli italiani si riconoscano a fratelli, che non si facciano dividere dalle bugie e dagli odi. Che nasca finalmente l'unità d'Italia. Ma l'unità degli animi, l'unità dei cuori patriottici. Queste cose non le dico ora per politica. Le ho sempre pensate. E se avete letto tutto il libro, sapete che sono la storia della famiglia mia. Perché se fosse vero che i cattolici, comunisti e socialisti non possono andare d'accordo, allora è distrutta la storia della mia famiglia. E se ha fatto qualcosa di buono, l'ha fatto perché aveva questa forza delle due fedi. Se voi dite che non si può andare d'accordo, allora la madre, che è rimasta cattolica fino alla morte, non andava d'accordo con i figli suoi, e io stesso gli ero contro. E rinnegate tutta la fede di gioventù dei figli miei, che era cristiana, e di questa presero il seme migliore, e lo unirono alla grande idea comunista. Se voi dividete queste cose, allora sì i figli miei sono morti davvero, e il sacrificio della mia famiglia non è mai esistito. Io vorrei farvi sentire che cos'è avere ottant'anni, aspettarsi la morte da un momento all'altro, e pensare che forse tanto sacrificio non ne va al suo niente, se ancora odio viene acceso tra gli italiani. Che il cielo si schiarisca, che sull'Italia torni la pace e la concordia, che i nostri morti ispirino i vivi, che il loro sacrificio scavi profondo nel cuore della terra e degli uomini. Allora sì mi sarò guadagnato la mia morte, e potrò dire alla madre dolce e affettuosa, alla sposa mia adorata, la terra non è più come quando tu c'eri, sulla terra si può vivere, e non solo morire di crepacuore. E ai figli dirò, l'Italia...